Buongiorno a tutti, stiamo registrando la Commissione Congiunta Seconda Urbanistica Ambiente e Ciclo dei Rifiuti con la Commissione Prima Politiche Sociali e Politiche Giovannini. Assume la presidenza il Presidente della Commissione Seconda, il Consigliere Gagliardi. Procedo con l'appello. Gagliardi Manuel. Buongiorno presente, dalle 9 con giustifica, grazie. Vaiocchi Roberto. Buongiorno a tutti, presente. Borrelli rientrerà come Commissario della Prima. De Iulis Massimiliano. Buongiorno a tutti, presente, tra 9 e 25, grazie. Con giustifica. Sì, sì, grazie. Ecca Fabio. Buongiorno a tutti. Non si è sentito bene, con giustifica. Sì, con giustifica. Marrocchini Giulia. Buongiorno, presente Muro Pes Marco Presente, buongiorno Per la commissione prima, De Vivo Patrizia Presente Ale Origino Presente Angelini Lorenzo Presente Bellassai Fulvio Presente Borrelli Danilo Buongiorno a tutti e tutte, presente Cerisola Marco Sì, buongiorno Presente con giustifica, grazie Vaccari Paola Presente Buongiorno a tutti e tutte Con giustifica, sono presente dalle 9 13 presenti Sì Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui Grazie anche e soprattutto agli ospiti che abbiamo invitato in questa commissione Inizio a introdurre l'argomento Oggi ci ritroveremo a disquisire di una questione che viene da lontano Insomma, la conosciamo tutti benissimo Che appunto Il regolamento e la gestione in generale del patrimonio di Roma Capitale Abbiamo seguito in questi ultimi anni l'evoluzione della situazione In particolare collegata alla delibera 140 E agli effetti che io, come dire, non ho difficoltà a definire veramente inaccettabili Detto questo, noi abbiamo ricevuto appunto quest'ultima bozza di deliberazione Che arriva direttamente dall'assessorato Per il patrimonio E io non so se Facciamo un primo check Non so se i consiglieri hanno avuto modo tutti quanti di avere accesso alla deliberazione È presente anche all'interno della cartella del team Datemi una segnalazione se non avete avuto modo o non riuscite ad aprirlo Semmai provvediamo subito Perché, diciamo, sarà essenziale per lo sviluppo del dibattito di oggi Lo prendo con un silenzio e senso Introduco la vicenda dicendo che È evidente e necessario che si debba procedere su un regolamento Che vada appunto a mettere un quadro chiaro di normativa aggiornata Sulla questione appunto della gestione del patrimonio Sicuramente il regolamento che stiamo vedendo adesso Fa dei passi in questo senso Perché chiaramente dà un'interagliatura All'interno della quale poi poter anche andare a approcciarci Non solo sulla gestione del patrimonio futura Ma anche sulla gestione attuale In una certa misura anche passata Io però introduco Magari non esplicito troppo Il ragionamento che lascio poi Durante il dibattito Spazio a tutti e anche a me Per poterne parlare Però ritengo che questo regolamento Sia assolutamente perfettibile Che dovrà essere inevitabilmente integrato su alcuni aspetti E secondo me su altri debba essere invece fatta una Come dire Anche chiarezza su alcuni passaggi Che come dire formalmente Dal punto di vista linguistico sono chiari Però poi dal punto di vista politico e operativo Invece devono avere una esplicitazione O comunque sia una maggiore chiarezza E faccio un esempio su tutti Secondo me l'articolo 42 È uno di quelli che vanno Come dire Chiariti in modo molto Molto cristallino Perché su quello poi si gioca Anche come dire L'impianto Della deliberazione stessa Dal mio punto di vista Sulla gestione Delle situazioni Passate o comunque odierne Allora Io Vorrei passare la parola Anche alla Presidente De Vivo Così anche lei ci dà la sua introduzione E poi apriamo il dibattito Fra consiglieri e associazioni invitate Patrizia Prego se vuoi Anche tu Scusami Presidente Posso fare una domanda tecnica A Danilo Borrelli Visto che è il Vice Presidente Essendo questa Una delibera approvata Dalla Giunta Comunale Le proposte di modifica Che potremo presentare Sono osservazioni Lo dico subito Sono emendamenti O osservazioni Osservazioni Sì Osservazioni Osservazioni In quanto è una proposta Capitolina Quindi di un altro organo Per cui Come osservazioni Che costituiscono L'allegato Con cui poi noi Esprimiamo il parere Grazie Poi vengono recepite Ovviamente nella delibera Municipale Per osservazioni Quindi io lascio La parola a De Vivo E successivamente Anche all'assessore Laurelli Se vuole fare Anche a lei Un'introduzione Prego Grazie Mi sentite? Non so se Sì Ho Tutto a posto Allora grazie Sì Effettivamente Io in questi giorni Ho studiato molto Questo regolamento Perché è un regolamento Complesso Ed è un regolamento Atteso Da anni Proprio per Sono Trent'anni Che La città di Roma Aspetta un regolamento Che gestisca i beni immobili Volevo aggiungere Alcuni Alcuni Aspetti Che mi hanno colpito Di questo regolamento A parte L'articolo 42 Che concordo Con il Presidente Cagliardi È un articolo Dobbiamo leggere In modo approfondito E capire Analizzare E se ci sono cose Non 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 Chiare Probabilmente Dovremmo Intervenire Su questo articolo Quello che però Volevo dire Che finalmente Si passa Dalle parole I fatti Perché in tutti In tutti i regolamenti Precedenti Compreso in quello Della 140 Compreso Quello Della 17 Del 2017 Si parla sempre Di beni Di beni sociali Però in realtà Questo è il primo Regolamento Dove Il discorso Del sociale È veramente Molto presente Quindi L'immobile Non è più Considerato Da un punto di vista Solo Economico Come era successo Nella Delibera 140 Nelle Delibere Successive Ma è un bene È un bene Sociale E questo punto Non solo È dichiarato Perché in molti Regolamenti Vengono fatte Delle dichiarazioni Che poi Non trovano All'interno Degli articoli La loro applicazione Ma invece È applicato Come viene applicato Questa cosa Una novità Rispetto a tutti I regolamenti E l'istituzione Del forum Noi oggi abbiamo Con questo regolamento Abbiamo un forum Che è il forum Per la valorizzazione Dei beni Sociali Il forum È Il È composto Da I presidenti Dei municipi È composto È un forum Essenzialmente Politico Dai Presidenti Delle commissioni Capitoline Dall'assessore Capitolino E per fortuna Anche da tanti enti Del terzo settore E saranno 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 inclusi In questo forum Con un bando Di assegnazione pubblica Esattamente come è stato fatto Per il forum Dei beni Confiscati Alla mafia Che entra A tutto diritto Anche all'interno Del nostro regolamento Perché il nostro regolamento Questo regolamento Abroga Anche Il regolamento Sui beni Confiscati Alla mafia E li include All'interno Di questo regolamento Quindi noi avremo due forum Uno è già nato A gennaio Grazie All'intervento Di Gualtieri Che Che ha Ha accolto Ha fatto Diciamo La richiesta Di Ciotti Di Istituire Questo forum Oggi Quel forum Ha 40 associazioni Fra cui Libera Ovviamente Che E fra Le associazioni Importanti Che hanno Molta esperienza Nel campo Della confisca Dei beni Alla mafia Questo È un fatto A mio parere Veramente Notevole Per questo Per questo Inoltre Finalmente Finalmente Perché sono anni Che si Tenta di fare Un Un elenco Un elenco Un censimento Del patrimonio Ci sarà Verrà Pubblicizzato Ogni sei mesi Un elenco Dei beni Immobili Patrimoniali E ci sarà Anche un portale Del futuro Che Sarà un portale Libero Tutti potranno Accedervi E potranno Vedere Il bene In che stato Si trova E come viene Utilizzato Un altro Punto Fondamentale È che In tutti Questi Trent'anni Le strutture Capitoline E intendo Le strutture Capitoline Anche i municipi Sono rimasti Molto da soli Di fronte A pensare Ai bandi Ai ricorsi A gestire Tutti Questi beni Invece In questo momento C'è la possibilità Di avere Verrà istituito Un comitato Tecnico Questo comitato Tecnico È formato Dai direttori Di tutti i municipi Io credo Che manchino Gli esperti Municipali Però sono convinta Che anche La loro assenza Cioè È specificato All'interno Del regolamento Che sono Un organo Di consultazione E dovranno Intervenire Anche in Casi Di diverse Di concessioni Multiple Perché sono Effettivamente Le concessioni Più complicate Questo regolamento Ancora Ancora Recepisce Tutto quello Che sono state Sia gli stati Generali Del bene Patrimoniale Fatti nel mese Di maggio Sia tutte Le osservazioni Fatte Delle associazioni E Recepisce Quindi Tutte queste Tutto In qualche modo Le loro osservazioni Poi non ho partecipato Agli stati generali Però insomma È frutto Di una grande Partecipazione Cosa che non è stato Per gli altri regolamenti Che sono stati Essenzialmente Delibere di giunta Quindi ci sono Molti aspetti A mio parere Positivi Di questo Regolamento È ovvio È ovvio che Una cosa che dobbiamo Capire Che è anche dichiarato Che la maggior parte Dei beni Oggi sono tutti Scaduti Cioè le concessioni Passate Di questi 820 Tantissimi modi Di approccio Al bene Innanzitutto È possibile Approcciare al bene Per la classica Concessione Con il bando È possibile Gestisce Invece Dei canoni ridotti Del 20% Per quanto riguarda Tutto quello Che è sociale E quindi Istituti Culturali Non istituti Insomma Associazioni culturali Associazioni sportive Associazioni Per Questo è trattato Molto Nell'articolo 20 Che è un altro Articolo Molto complesso Del regolamento Contempla Anche i patti Di collaborazione E contempla A mio parere Un'altra Importante Possibilità Che sono i patti Di coprogrammazione Coprogrammazione Vuol dire Che Le strutture Capitoline Possono Coprogrammare Insieme Alle associazioni Privati All'associazione Del terzo settore La destinazione D'uso Del bene Quindi Ovviamente Ci sono i comodati D'uso Gratuiti Che sono Per Tutte le associazioni Religiose Per lo Stato Per la polizia Per la protezione civile Penso che È abbastanza Complesso Tenta di mettere Insieme Tutte queste cose E Un'altra Delle novità È che Questo forum Che Per i beni Nuovi Per i beni Disponibili Che poi È anche per i beni Che Nella vita Nel ciclo di vita Di un bene Rientrano Nella disponibilità Della Che L'amministrazione Generale Generale Da Molto Ci tiene Al fatto Che Le Associazioni Che i beni Sia sempre Utilizzato Io lascio La parola Agli altri Perché Magari Intervengo Nel corso Della Discussione Però Lascio la parola Agli altri Perché Mi sembra Avrebbe detto Abbastanza Grazie Infatti Volevo Entrarci Più tardi In modo Così Specifico Nell'argomento Laurelli Assessore Prego Se vuoi Che tu Darci un Contributo Penso Che poi Il punto Di vista Strettamente Relativo Alla Gestione Del patrimonio Lo tratterà La presidente Di salvo Io parlo Soprattutto Dal versante Utilizzo Del patrimonio Da parte Delle realtà Del terzo Settore Che sono La gran parte Del mondo Del volontariato Laico E meno Laico Romano Che subisce Gli effetti Di una Regolamentazione Che noi Stiamo Contestando Quindi In particolare Su L'indirizzo Politico Dell'amministrazione Attuale Di decentrare Il più Possibile Competenze Ai municipi Credo Che Titti di salvo Saprà Interverrà Ovviamente Anche per Darci Magari Delle informazioni Le più Aggiornate Possibile Su quello Che si sta Facendo A livello Capitolino Per quanto Riguarda La delibera Questa è una Proposta Di delibera Dell'aggiunta Comunale Come tutti Gli atti Relativi Al patrimonio Chi delibera In finale È L'assemblea Capitolina Sono I consigli Che decidono Sulla Gestione Del patrimonio Siano Essi Per gli Indirizzi Che vorremmo Dare Noi Come Gestione Del patrimonio Municipale Ma anche Sul patrimonio A livello Comunale Quindi La regola È questa Qua Come diceva La Presidente De Vivo Questo regolamento È diventato Indispensabile Perché Vanno Azzerati Gli effetti Nefasti Su tutto Quel mondo Del terzo Settore Di cui Mi sto Occupando In giunta Effetti Causati Dalla Delibera 140 Che nasce Non troppi Anni fa Nel 2015 Con L'amministrazione Di Ignazio Marino E che prosegue Poi nella sua Attuazione Con l'amministrazione Raggi Nasce Per far fronte A inchieste Molto Importanti Della Corte Dei Conti E quindi Nasce Più Per tutelarsi Come amministrazione E come Amministratori Pubblici Che non Per regolamentare Francamente O per aggiornare Una regolamentazione Che pure C'era E che era Necessario Probabilmente Mettere sotto Controllo Non c'è più Contezza Da anni Del Censimento Effettivo Vero Del patrimonio Del comune Di Roma Quindi siamo Un'amministrazione Che da anni Gestisce Secondo me In modo Molto Deficitario Un patrimonio Per gran parte Non censito Non conosciuto Dove Diciamo L'illegalità È diventata La regola In assenza Di Un'amministrazione E per amministrazione Non intendo Solo il sindaco E l'assessore Al patrimonio Ma soprattutto Il dipartimento E gli uffici Che abbiano Effettivamente Messo in atto Gli indirizzi Del regolamento Precedente E lo abbiano Anche Tenuto sotto Controllo Questo patrimonio Nella sua Nella sua Gestione La delibera 140 Ha avuto Come esiti Applicativi Poi Nell'amministrazione Raggi Una serie Di sfratti A catena Pazzeschi Che hanno Messo Veramente In ginocchio Tutto Il mondo Del volontariato Romano E che hanno Reso Di fatto Illegali Tutte Le gestioni O le assegnazioni Del patrimonio Immobiliare In presenza Di un Dipartimento Del patrimonio Che ha Negli anni Gettato La spugna E non ha più Esercitato Il potere Di controllare La regolarità Nel pagamento Degli affitti La scadenza Dei contratti I rinnovi Degli stessi L'assegnazione Di immobili Vuoti La tutela Del patrimonio Per quel che attiene Alle manutenzioni Ordinarie E straordinarie E tutta una serie Di vicende Che noi tutti Conosciamo Sufficientemente Bene Io credo Che noi Nella Dobbiamo ringraziare L'amministrazione Attuale Per aver Voluto fare Una nuova Regolamentazione Che Azzera Tutto Quello Che era Regolamentato Precedentemente Quindi La delibera 26 Del 95 Eccetera Eccetera E quelle successive Quindi anche La 140 Ma che In molte parti Dello stesso regolamento Riprende Indirizzi Fondamentali Della delibera 26 Del 95 In particolare Laddove La delibera 26 Nel far emergere Dalla illegalità Totale Negli anni 90 La realtà Diciamo Dell'utilizzo Del patrimonio Da parte Delle associazioni A Roma Aveva Deciso Di valutare Anche economicamente Il valore Non solo Dei lavori Di manutenzione Effettuati Sulle sedi Ma soprattutto Il lavoro E quindi La qualità sociale Culturale Eccetera Del lavoro Svolto Dalle associazioni E aveva deciso Di scomputare L'affitto Commerciale Dell'80% Riconoscendo Appunto Il valore Delle attività Di queste associazioni Questo è ripreso Totalmente Nella nuova delibera Ed è un bene Per la nostra città Che questo Si riprenda Quello che Secondo me Noi dobbiamo Approfondire Da qui Alla seduta Di consiglio Dove daremo parere Fermo restando Ovviamente Che la giunta Esprime parere Favorevole Su questa Delibera È approfondire Quegli articoli Che riguardano La gestione Del pregresso Inteso come Invio Di cartelle Esattoriali E quantificazione Di fondi Da restituire All'amministrazione Centrale Dobbiamo Secondo me Salvaguardare L'indirizzo Fondamentale Della definizione Del patrimonio Come patrimonio Pubblico Da utilizzarsi A scopo Sociale Dobbiamo Ottenere Rapidamente Adesso non so Con che strumenti Che venga Effettivamente Completato Concluso Il censimento Del patrimonio E restituire Fiato A tutto il mondo Del terzo settore Che non è sostitutivo Ovviamente Dell'amministrazione Pubblica Ma laddove Collabora Con l'amministrazione Pubblica E l'amministrazione Pubblica Ne valorizza Le attività Rende In termini Di servizi Migliore La qualità Della vita Di tante Categorie Di cittadini A cui L'amministrazione Pubblica Non saprebbe Dare Nessun tipo Di risposta Faccio un esempio Per tutte Se non Avessimo La realtà Di Sant'Egidio Noi oggi Non avremmo In gestione La casa Di Aidi Per i Senza Fissa Di Mora E quindi Non potremmo Dare un servizio Di pubblica Utilità Di salvo Molto meglio Di me Che c'ha una lista Di richieste Che è infinita Raccolta in questi pochi mesi Di amministrazione Mentre abbiamo Una richiesta Di attività A scopo sociale E quindi Di pubblica utilità Da parte Di decine Decine E decine Di associazioni Che speriamo Con questo nuovo regolamento Finalmente Possano trovare La risposta necessaria Con assegnazione In modo legale Del patrimonio necessario Per queste attività Nel patrimonio necessario Ci metto anche Quel patrimonio Pubblico Da utilizzare A scopo sociale Che in particolare Nel settore Dei servizi sociali Di cui mi sto occupando È patrimonio Indispensabile Per rispondere A vecchi E nuovi Bisogni sociali Noi abbiamo Un servizio sociale Che è all'altezza Dei suoi compiti E impegna Tutti i fondi Di bilancio Disponibili Per realizzare Progetti Siamo arrivati A un punto Della nostra gestione Che faremo In commissione Quindi non oggi Però lo accenno Un punto Sulla necessità Di nuovo Patrimonio Per realizzare Servizi Per cui abbiamo Fondi Destinati Con legge Dopo di noi Fondi Della 285 Quindi Disagio minorile Giovanile E via dicendo Che forse Non riusciremo Più ad impegnare Se non arriveranno Decisioni Della nostra Amministrazione Dell'amministrazione Comunale Che ci consenta Di avere Le sedi necessarie Per aprire Questi nuovi servizi Scusate Questo pezzetto Che è molto Di parte Ma Anche i municipi Hanno diritto Ad essere presi In considerazione In questa delibera Come Realtà istituzionali Alle quali Prioritariamente Va Assegnato Il patrimonio Necessario Per i servizi Per i cittadini Se no Facciamo La retorica E la favola Della buona E sana gestione Del patrimonio Pubblico Grazie Grazie Assessore Presidente Di Salvo Se vuole Io le lascio Subito Lo spazio Grazie 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 Presidente Cagliardi Saluto Lei Sì Presidente Di Vivo E tutte le persone Che sono Qui intervenute Sia del consiglio Consigliere Consiglieri Che naturalmente L'assessora Laurelli E le associazioni Buon rientro A tutti Per chi è rientrato Inizia un lavoro Ricomincia Domani Il lavoro Del consiglio E quindi Ricomincia Il nostro lavoro La nostra attività Quindi buon lavoro A tutti noi Sul merito Della Della discussione Io faccio Semplicemente Alcune Sottolineature Di ordine Generale Perché Sui contenuti Del regolamento Già Gli interventi precedenti Del Presidente Cagliardi Del Presidente Di Vivo E della Sessora Laurelli Hanno detto Anche molto Nel dettaglio Tutto quello Che andava Detto Per Consentire Ai commissari E alle commissarie E alle associazioni Di valutare Avendo chiaro L'ambito Della nostra discussione Che anche questo È stato già chiarito E cioè In presenza Di un atto Del Questo atto Noi abbiamo Il potere Di Definire Osservazioni Da allegare Reinviando Al Campidoglio Il testo Quindi diciamo L'ambito Del Dei nostri poteri Sono definiti Però Io ci tengo A fare alcune Sottolineature Per una ragione Perché considero Questo argomento Cioè La gestione Del patrimonio Un argomento Imprescindibile Per qualificare Nella direzione Che abbiamo Scelto La nostra Amministrazione Capitolina E Municipale Considero Cioè La gestione Del patrimonio Un punto Non uno dei tanti Ma un punto Fondamentale Cioè Considero Un punto Fondamentale La gestione Degli spazi Degli spazi Considero Altresì Un punto Fondamentale Il rapporto Sempre Per definire Il profilo Politico E amministrativo Del Campidoglio E nostro Il rapporto Con Il terzo Settore Il mondo Dell'associazionismo Quindi sono Due terreni Importanti Entrambi Per cui Ragionare Di questa Del superamento Della delibera 140 È un punto Decisivo Non è uno dei tanti Ed è per questo Che abbiamo accolto Io ho accolto Con molto Piacere L'invito Alla presenza Dei due Presidenti di Commissione Ed è per questo Che noi abbiamo Cominciato Quando intendo Lo dico No Intendo La Giunta E Ha cominciato E il consigliere E le consigliere Dall'inizio Della Consigliatura E cioè Dalla discussione Del bilancio Che è stato Uno dei primi atti Se non il primo Che abbiamo affrontato Una volta insediati Abbiamo fatto Di questo argomento Un argomento Su cui abbiamo Sollecitato Una discussione pubblica E' dal nono municipio Che è partita Che si inniscata La discussione pubblica Sull'argomento Ci tengo a ricordarlo Ci tengo a ricordarlo Perché è un punto Per quello che dicevo Prima Non per mettere I puntini Sulle i Ma per dire Che consideriamo Questo tema Un tema Davvero rilevante Per definire Il nostro profilo Politico E amministrativo Dico perché Naturalmente E perché Da questa considerazione Discendono poi Due evidenze Che Sottolineano Alla fine La ragione per cui Penso che questi Due argomenti Siano Definitori Della nostra Azione Amministrativa E politica E perché Immagino Una città E una capitale Che riprenda Il suo posto Nel mondo E della politica Degli spazi Faccia lo strumento Attraverso cui Concretamente Eserciti E persegua Gli obiettivi Di Nuova città Inclusiva Aperta In cui I diritti Fondamentali Di prossimità Sono diritti Che si possono Esercitare In luoghi Vicini Alle persone Quando noi Proiettiamo A Roma Capitale Nell'ambito Del panorama Delle capitale Europee Penso a Municipi d'Europa L'iniziativa Che abbiamo fatto Il 15 di giugno Immaginiamo Una capitale Inclusive Aperta E di prossimità Immaginiamo Cioè una città In cui i diritti Fondamentali Delle persone Possono esercitarsi Vicino alle persone Medesime Allora in questo Ragionamento Due sono i punti Su cui essere chiari Quali sono i diritti Di prossimità Cosa vuol dire esercitarli Nei diritti Di prossimità Noi intendiamo I diritti Naturalmente sociali I diritti Anche Politici Va da sé I diritti Economici Ma soprattutto I diritti sociali E tra questi Intendiamo i diritti A spazi culturali A luoghi in cui esercitare E fare sport In cui leggere un libro In cui andare al cinema In cui vedere uno spettacolo Teatrale Quindi non solo I luoghi in cui Fare una pratica Fare il cambio Di residenza Piuttosto che La carta di identità Piuttosto che Eccetera eccetera Ma i diritti Di prossimità Per essere esercitati In modo prossimo Devono avere I luoghi In cui sono esercitabili Allora il tema Dell'uso degli spazi In quell'elenco Decalogo Di diritti Che non sono solo Quelli diciamo Definiti In modo accademico Ma sono anche quelli Che noi ci mettiamo Per il senso politico Che hanno Alla cultura E a tutto quello Che ho detto Presuppongono Che esistano degli spazi In cui possono essere esercitati Ma soltanto A livello municipale È possibile Individuare Quegli spazi E quella prossimità Per questo ragionamento Diciamo che mettevo In cima Alle osservazioni Sull'argomento Di cui stiamo parlando Sul testo Sul regolamento Di cui ci stiamo occupando Per questa ragione Io penso Che le osservazioni Da fare Siano fondamentalmente due Uno riguarda esattamente Questo capitolo Questo repertorio Cioè Il fatto Che la gestione Del patrimonio Debba essere Un potere Che viene Esercitato Dai municipi Quindi delegato Nell'ambito Della riforma Del decentramento Dei poteri Di diritti La capitale Con i principi Naturalmente Io non mi aspetto Né mi aspettavo Che nell'ambito Della definizione Di un nuovo regolamento Questo tema Venisse Completato Ma io penso Che vada posto E proposto Quindi Nella Diciamo Mia opinione È un argomento Che va Inserito Nelle osservazioni Anche se È evidente A tutti Lo dico Per comunità Di ragionamento Ma è evidente A tutti voi Che non è che nel regolamento Ci può essere scritto Che il potere Di gestire Il patrimonio Va ai municipi Come Elemento Del regolamento Come Articolo Del regolamento Non è Il regolamento Non ha la potestà Di definire E ridefinire I poteri E l'ambito Delle competenze Tra Campidoglio E municipi Ma questo tema È un tema Principale Il secondo argomento Siccome Lo nominavo prima E da questo Faccio discendere La seconda osservazione Che io penso Va da Secondo me Va diciamo Evidenziata Anche se è stato già detto Ma ci tengo a sottolinearlo Siccome il rapporto Con il terzo settore Con l'associazionismo Deve essere E sarà sempre di più Un elemento fondamentale Della qualità E della quantità Del welfare Che In termini generali E in termini Territoriali È offerto ai cittadini Secondo Una visione Di welfare Di prossimità E di rapporto Tra pubblico e privato Di sussidialità Allora Se questo è È evidente Che il rapporto Con l'associazionismo Deve avere caratteristiche Tali Che rendono La cosa Che dicevo prima Ricca di senso Cioè Non si possono Diciamo Privare Se puoi provare Il terzo settore Di opportunità Chiedendo poi Al terzo settore Di svolgere Funzioni Che Sono fondamentali Non per chi le svolge Ma per i cittadini E le cittadine E strutturalmente Io penso Sarà sempre di più così Allora Da questo ragionamento Io faccio discendere La seconda considerazione Che riguarda appunto Una Considerazione Di senso E quindi di valore Anche Nell'uso Degli spazi Del patrimonio Pubblico Considero Lo diceva L'assessore Maurelli Anche Il presidente Gagliardi Considero Molto importante Anche Il presidente Di vivo Molto importante Da questo punto Di vista La scelta Dell'amministrazione Capitolina Di questo Del regolamento E gli assi Lungo cui È costruito Perché Si muove Esattamente In questa direzione E cioè Nel ridefinire In modo appropriato E in modo Premiale Il rapporto D'associazionismo E spazio pubblico In relazione Al ruolo E alla funzione Di interesse Generale Che l'associazionismo Ha Da questo punto Di vista Penso Che Quindi Considero Il regolamento Una svolta Vera Una svolta Vera Che Va Nella direzione Che Noi abbiamo Ospicato Da novembre 2021 Per l'appunto Novembre 2021 Penso Che rispetto Ai punti Aperti È stato Fatto C'è un percorso Di confronto Che dovrà Completarsi Credo Che Nei punti Aperti Nomino Il pregresso E come viene Diciamo Definito Il rapporto Pregresso Tra le associazioni E L'amministrazione La Corte Dei Conti Su questo Devono essere Ascoltate Le opinioni Perché Naturalmente È un punto Aperto Che va Chiuso Dal migliore Dei modi Quindi Chiudo così Grazie Presidenti Ci tenevo Quindi a Mettere Sui binari Una discussione Generale Per dare Il senso Del nostro Interesse Specifico Come Municipio Nove In questa Discussione E per dire Che questa Discussione Per noi Continua Anche All'interno Della Riforma Del regolamento E dello Statuto Del Comune Di Roma Grazie Presidente Allora Io Arrivati A questo Punto Controllo Un attimo Se ci sono Già le mani Alzate Dei consiglieri Non le Vedo Se C'è Qualche Consigliere Che intanto Vuole Intervenire Volentieri Altrimenti Io Lascerei La parola Alle Associazioni Soprattutto Se c'è Un capopila Che so Che sono Associate Anche Sotto Una Sigla Unitaria Quindi Volendo Posso Lasciare La parola Molto Volentieri Per avere Anche Un punto Di vista Appunto Del terzo Settore E poi Così Sarebbe Secondo Me Anche Più Facile Avere Un Confronto Politico All'interno Della Commissione Quindi Se non Ci sono Consiglieri Calzano Le mani Io Lascio Volentieri La parola Penso Li Butti Se non Sbaglio Eccomi Buongiorno E poi Vedo Anche Cannelli Calzato La mano Perfetto Prego Li Butti Vado Vado Prima Io Sì Sì Certo Va bene Innanzitutto Grazie A tutte E tutti Per L'ascolto Per il Tempo Che Ci dedicate E Per il Tempo Che ci avete Dedicato In passato Insomma Questo Assolutamente Lo Riconosciamo Un'interlocuzione In particolare Con questo Municipio Ma anche Con l'amministrazione Fino ad oggi C'è stata Però L'interlocuzione Che abbiamo avuto Non ha portato Ai risultati Minimi Che noi Speravamo Oggi siamo Molto franchi Perché siamo Molto Molto Delusi Da questo Regolamento Il tema Non è Fare qualcosa Perché in passato Non si è fatto Nulla Il tema È fare qualcosa Per risolvere I problemi Dei cittadini Molti dei problemi Che oggi Le associazioni Si trovano A dover Affrontare Sono stati Ahimè Causati Dalla famosa Delibera 140 Di cui è stato Detto Che aveva Stato approvata Insomma Da Un'aggiunta Che aveva Gli stessi colori Di quelli Che oggi Governano Roma Questo regolamento Bisogna dirlo subito In realtà È una delibera Che rega Al suo interno Un regolamento Lascia intatte Tutte le problematiche Che purtroppo La delibera 140 Si portava avanti Io Andrò Velocemente Per consentire A tutti Di parlare E poi depositerò Se siete d'accordo Le nostre osservazioni Per iscritto In maniera Che tutti Possiate Guardarle Valutarle Magari Le mando Alla stessa mail Dove ho mandato La privacy Se va bene Innanzitutto Secondo quanto si è detto Emerge Un primo raffronto Con la delibera 26 Allora L'assessora Laurelli Ne è stata Capofila Portavoce Ha visto La sviluppo Di quella delibera Quella delibera Prendeva atto Di una situazione Di fatto Che è A distanza Dal 95 Ad oggi Di quasi 30 anni Simile a quella di oggi Diceva Siccome sul patrimonio Di Roma Capitale Insistono Numerosi immobili Abbandonate Numerose situazioni Di occupazioni Ma che allo stesso tempo Alcune di queste Hanno una valenza sociale È opportuno Sanare queste situazioni Questo è il senso Della delibera 26 In realtà Tutto questo Manca Questa delibera O regolamento Come vogliamo chiamarli Sono tutti e due Insieme delibera E non fa Minimamente Un'analisi Della situazione Attuale Non si pone Il problema Minimamente Di sanare Le situazioni Che di questo Ne siete tutti Consapevoli Ad oggi Non ce n'è più Una In regola Non si pone Il problema Di sanare Queste situazioni Ma dice E questo è il punto Fondamentale Sulla quale Non ci può essere Che disaccordo Dice che Abroca la delibera Quanto Quanto Ahimè Era stato detto Nei nostri incontri Perché bene La partecipazione Però poi La partecipazione Deve portare Anche a Dei risultati Se i risultati Sono opposti A quelli Che si è O di cui Si è discusso Per noi Non va bene Ma al di là Degli impegni presi Al nostro avviso Non rispettati Ci sono precise Norme Di diritto E nello specifico Vi manderemo Tutti i riferimenti L'articolo 21 OXI S21 9 S della legge 241 Del 1990 Che prevedono Che in si fatti Sitazioni Quando gli atti Emanati Dalla pubblica Amministrazione Sono illegittimi La pubblica Amministrazione Ha il dovere Di ritirarli E non Consolidarne Gli effetti Questo lo dicono Le norme Che ho menzionato Questo lo dice Anche la magistratura Contabile E quindi Per pretare Gli effetti Di atti Legittimi Sul vostro territorio Ad esempio Abbiamo La riacquisizione In atto tutela Del teatro 12 Che è stata Dichiarata Illegittima Abbiamo la riacquisizione In atto tutela Della palestra Street of the life Che è stata Dichiarata Illegittima Abbiamo la riacquisizione Del centro sociale Auremarco Che è stata Dichiarata Illegittima Quindi questo Solo sul vostro territorio Quindi l'amministrazione Non deve Perpretare questi atti Ma il dovere Di ritirarli Insiste Posso fare una domanda Su questo Scusi se la interrompo Ma il far salvo Questa tipologia Di rapporto giuridico Quindi la costanza Di questi elementi qua È vero Che mantiene La parte Della riacquisizione A patrimonio Ma le chiedo Tecnicamente Visto che lei Mi sembra La persona più deputata A darci una risposta Potrebbe servire Anche a mantenere La costanza Dell'evento Aborigine Che ha dato Inizio al rapporto Di fatto Divenuto poi Ma originario Indiritto Cioè nell'assegnazione Cioè Quello che mi sto chiedendo Se Non venissero Fatti salvi Questi elementi Non si incorrerebbe Nel rischio Pericolo Che vengano Cancellati Qualsiasi tipo Di elementi A questo punto Superstiti Che hanno dato Causa ai soggetti Di stare all'interno Degli immobili Oltre a Come dire Alle tragedie Che poi Con la 140 Non solo Si sono aggiunte No la ringrazio La domanda Più che pertinente Ma ad oggi Quei titoli Come detto Sono tutti scaduti O dichiarati Dall'amministrazione Dei caduti Quindi Il problema È come un cane Che si marde la coda Non va risolta così Perché ad oggi Al di là Di chi ha impugnato Giudizialmente Ed ha vinto E ad oggi Sul territorio Sono tutte Le associazioni Di Caio Gli altri Che non hanno vinto Giudizialmente Perché hanno scelto Un'altra strada Quella del Tar O che hanno deciso Proprio di non impugnarli Quegli effetti Sono saldi Ma comunque Sono saldi Vale a dire Che l'amministrazione Per effetto Della delibera 140 Li ha dichiarati Dei caduti E su questo Mi preme Anche dire una cosa È vero Che la delibera 140 È iniziata Sulla base È stata emanata Sulla base Di indagini Della magistratura Contabile Ma quel procedimento Contabile Si è risolta Con la soluzione Dei funzionari Che erano A processo Per aver assegnato Questi immobili E per aver Riconosciuto L'esenzione Del pagamento Dell'80% Quindi anche Basta con quella storia Perché c'è stato Un procedimento Che ha visti Assolti i funzionari Ritenendo che L'assegnazione Degli immobili Al 20% Del canone Era un'assegnazione Legittima È iniziata Si è chiusa Non so se Diciamo L'inizio Che è iniziata Sulla base Di indagini E di un processo Che poi ha avuto Presso la magistratura Contabile Ma si è conclusa Con la soluzione Delle persone Andando al processo Allora Invece Su questo C'è la magistratura Contabile Che indichiamo Nel nostro atto Che dice Che l'amministrazione Ha proprio il dovere Di ritirare Gli atti Legittimi Gli atti Che appunto Si assumono Essere illegittimi Sul vostro territorio Vi ho portato Gli esempi E nelle memorie Che vi daremo Sono anche riportati Gli estremi Dei tribunali Che dichiarano Illegittimi Delle sentenze Delle ordinanze Tribunali Che dichiarano Illegittime Queste Riacquisizioni Aggiungo E pacifica Questa cosa Non perché La dico io Che sono di parte Perché Roma Capitale Ha scelto Nel momento In cui Ha perso I primi gradi In giudizio Di non impugnarli Quindi Ritiene Che effettivamente Ci sia Un bonus Normativo Rispetto a quelle Riacquisizioni Emanate Ora però Stiamo ritornando In auge Perché a molte Associazioni Dopo Essere Arrivata La riacquisizione In nato tutela Dopo Le acquisizioni In nato tutela E stati Chiarati In Legittime Stanno arrivando Richieste Di denaro Come il caso Del teatro 12 Per cifre importanti Che non possiamo Ritenere che Siano fatte salve Nel teatro 12 Ci sono arrivate 600 mila euro Aime In giunzione di pagamento Notificata In pieno lockdown Evidente Che non poteva Ritirare da nessuno Ma che è andata In cartella esattoriale Il che pone Non pochi problemi In ordine Alla possibilità Di impugnare E far valere Nel merito Insomma Tutte quelle Che sono Le ragioni Di chi subisce Questa cartella Esattoriale Una cosa ci colpisce E vado al secondo punto Mi sono dilungato Troppo Vado al secondo punto L'assenza Di criteri fondamentali In questa Libera Che dovrebbero disciplinare Il patrimonio Come la principale norma Sappiamo che la Costituzione È la fonte principale Del nostro ordinamento Viene addirittura Estromesso Da I criteri Possiamo dire Per l'assegnazione Del patrimonio L'articolo 42 Della Costituzione Quello che ci dice Che la proprietà È pubblica o privata Ma il cuore Della proprietà È la funzione sociale Quindi quello che dovrebbe Indirizzare Le assegnazioni È la funzione sociale Quali sono i criteri I criteri sono atti Sono i più vaghi E in questo A nostro avviso Va totalmente In confusione La delibera E però Cosa permette Questa delibera Permette ad esempio Fa questa disciplina Tra disponibile E indisponibile Sappiamo che L'abbiamo imparato A nostre spese In tanti anni Di battaglie Nei tribunali Che il codice civile Emanato ante costituzione Ha questa distinzione Da disponibile Indisponibile Non c'è nella nostra Costituzione Che è successiva Quindi è assolutamente Superflua È un pregiudizio Quella di distinzione Da disponibile E disponibile Tant'è che questo pregiudizio Viene fuori Quando dice Che questa delibera Si prefigge Di disciplinare Il patrimonio Indisponibile E il patrimonio Disponibile Nell'amore del passaggio All'indisponibile Per fini sociali Ma poi cosa succede? Qui arriviamo Al secondo punto Vale a dire Dall'indisponibile A disponibile Affinché sia dato Al privato Nelle forme Privatistiche Quindi attraverso L'allocazione Ora Se si disciplina Il patrimonio Indisponibile La funzione sociale Cosa c'entra Il privato All'interno Di questa Gestione Ma non solo A volte Il privato commerciale Viene menzionato Nell'articolo Vabbè Ora non lo trovo Ma comunque Avevo preso Gli appunti Le aree Di distribuzione Carburante Tra l'altro Queste Con assegnazione Diretta Ora Ripeto È la gestione Del patrimonio Per funzione pubblica O è la gestione Del patrimonio Per funzione Commerciale Penso che Possano essere Ben altri Gli strumenti Che può utilizzare L'amministrazione Per disciplinare L'importanza Del suo patrimonio E per disciplinare Altre problematiche Che indubbiamente Avrà Ma non è questa La sede A nostro avviso Aggiungo che Espressamente Non previsti La delibera 26 Erano I partiti politici E i sindacati In questa Delibera È prevista L'assegnazione Ai partiti politici E ai Sindacati Non che questo Costituisca Un Un bonus Particolare Però è una Una nota Che va Redatta Se la poniamo In relazione Con quella Che è stata La delibera 26 Qui c'è L'assegnazione Ai sindacati Lì non c'era Per espressa Ai partiti politici Lì non c'era Per espressa Volontà Manca l'articolo 42 Ma si fa Espressa menzione Dell'articolo 10 Della legge Numero 10 Del 2019 Della regione Lazio Una legge Cosiddetta Per i beni comuni Stupisce Che venga menzionata Questa legge Che è Altamente Inattuata Una gestione Pubblica Una legge Del 2019 Che prevede Nello stesso Articolo 5 Di istituire Esattamente Come fanno Qui E vi pregherei Visto che siete Tutti al computer Fatelo Andate sul sito Della regione Lazio Un elenco Dei beni Da destinare All'uso sociale E i patti Di collaborazione Sottoscritti Bene Dal 2019 Ad oggi Questo elenco Non c'è La pagina È in costruzione E non sappiamo Né quali sono I beni E nei quali sono I patti di collaborazione Sottoscritti Permettetemi È singolare Che venga menzionato Come modello Una legge Largamente Inattuata Soprattutto Se si vuole Risolvere un problema Che è cogente Per I cittadini Però anche Quella legge Come questa Favorisce Un ingresso Del privato Commerciale All'interno Della gestione Del patrimonio pubblico Non specifico Riconosce Gli imprenditori Commerciali Come cittadini Attivi Alla stregua Non può perseguirlo Usufruendo A canone Agevolato Di un bene pubblico Ma questa non è Una questione Politica Ci sono precise norme Che vietano Perché è evidente Che poi andrebbe Nello specifico Alledere lo stesso Principio Della concorrenza Ultimo Ma non per importanza Il discorso Della partecipazione Beh Questa Sinceramente A noi Ci dà Un sorriso amaro Si parla Di partecipazione Una delibera Che viene Per una delibera Che viene Presentata A cavallo Di Ferragosto In una città Semideserta In un ambito Nel quale Non ci viene Permesso Di parlare Né di fare Domande E dei dubbi Se permettete Ci vengono Anche in ordine Al forum Dice Vengono ammesse Le associazioni E gli enti Del terzo settore Ma sempre A discrezionalità Dell'amministrazione Che è libera Di invitare Le associazioni E gli enti Del terzo settore Che preferisce La partecipazione Quindi quello Che noi chiediamo E c'è Nelle nostre conclusioni È il ritiro E non può essere Altrimenti Prima dell'emanazione Della delibera È nato tutela Di tutte le richieste Di riacquisizione E delle richieste Di denaro Emanate In questi anni La limitazione Di ogni privato Commerciale Dalla gestione Del patrimonio Di proprietà Capitolina Di attendere Il censimento Appena iniziato Un censimento Che dovrà essere Non solo Degli immagini Ma anche Delle associazioni Che sono presenti All'interno Del patrimonio Capitolino Quanto alla richiesta Di denaro E il codice civile Che lo stabilisce Che possono essere Richiesti Al massimo Gli ultimi 5 anni E questo deve essere Disciplinato Del canone Al 20% Ma è evidente Che deve essere Del canone Al 20% Al momento Delle associazioni Vale a dire Che se io ho preso Un immobile Che era un rudere Nel corso Di questi 30 anni Perché molte Di queste strutture Hanno 30 anni L'ho reso Un gioiello Non è che tu Puoi venirmi A chiedere Il canone Sulla base Del mio lavoro Così come Esattamente Sta accadendo Alla realtà Anche che insistono Sul territorio Al termine Del censimento Noi chiediamo Che venga avviato Un vero percorso Partecipato Per la stesura Di una delibera Condivisa E non come questa Che ci pare Assolutamente Calata dall'alto Vi ringrazio Davvero Per l'attenzione E Noi Siamo qui Grazie Grazie Libutti La ringrazio Prima di passare La parola a Cannelli Volevo Soltanto specificare Due passaggi Io Su quest'ultima Considerazione Che ho fatto Sono assolutamente D'accordo Devo dire che È stato anche Il mio stupore Anche perché Altri enti pubblici Per esempio Regionali Come Ater Nelle procedure Di sanatoria Applicano esattamente Questo tipo di criterio Cioè Gli ultimi cinque anni Sulla base Della riduzione Del canone Stimato in quel caso Ma come anche In questo caso Se andiamo a vedere L'articolo Perdonate Non me lo ricordo A memoria Però C'è quello Della composizione Del canone Sul valore omi Valore medio Quindi Abbattuto Del 80 Quindi Il 20% Di quello che è Sugli ultimi cinque anni Scalato il costo Degli interventi Necessari Per il ripristino Del bene O comunque Sì Le migliorie È chiaro che in questo caso Noi ci dobbiamo regolare A differenza di quello Che dice il regolamento Non su una progettualità Non su una progettualità Di modifica di struttura Perché quella Chiaramente è proiettata Nel futuro Ma per un avvenuto Quindi è chiaro Che secondo me E questo Lo anticipo Anche per gli interventi Che arriveranno In avanti Io non penso Che si possa procedere Verso L'approvazione Di questo Di questo regolamento Se non Con La riapertura Di un dialogo Diretto Con il sindaco Con la giunta Insomma Con a livello Capitolino E con l'introduzione O meglio Il ricevimento Di questo elemento Perché è chiaro Che Altrimenti Non stiamo parlando Cioè Come anticipavo Prima Secondo me La conservazione Degli effetti Può avere giuridicamente Un senso Nella misura In cui serve A mantenere La costanza Di rapporto E quindi Un titolo originario E non soltanto Una situazione Di occupazione Di fatto Però è ovvio Che questo Non si può tradurre Nella costanza Della traduzione Del trascinamento Di tutti gli oneri E di tutte quelle cose Che oltretutto Vengono Sono incalcolabili Dal mio punto di vista Perché Non le posso calcolare Secondo un criterio Vecchio Perché è un criterio Che abbiamo Come dire Tranquillamente Sconfessato nel tempo In parte Non applicato direttamente Dal comune Eccetera 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 Fra l'altro Sottoposto a diverse epoche Storie Perché in 30 anni Ce lo possiamo anche dire così Quindi è ovvio Che la situazione Sia questa Dove francamente In molti casi Secondo me Ci si mette all'interno Di una probazio Diabolica Per vedere se Effettivamente Sono stati interrotti Termini di prescrizione O meno Quindi è chiaro Che anche volendo Far valere quella cosa Diventa Un percorso assurdo Un percorso assurdo E d'altronde Non si può pensare Che un criterio Di calcolo Attuale Possa essere ribaltato Su 30 anni di storia All'indietro Perché sono situazioni Giuridiche Completamente Differenti Quindi l'unico modo È attenersi alla legge E quindi mettere Oggi un criterio Sulla base della legge Quindi il valore OMI Valore medio Abbattuto dell'80 Quindi il valore metro quadro Chiaramente Euro metro quadro Trascinato Per gli ultimi 5 anni Quello diventa la sanatoria E quindi poi La regolarizzazione Secondo le procedure Cioè secondo me Da questo punto di vista Al di là La questione dei privati Cioè sul quale Poi potremmo entrare Specificamente L'impianto del regolamento Non è sbagliato Però l'impianto del regolamento È lacunoso Soprattutto con riferimento Al pregresso E questo è un elemento Che deve essere per forza Alla base Di un'interlocuzione politica Dalla quale Non possiamo prescindere Anche perché Secondo me La soluzione È a poca distanza Visto anche il lavoro Che si è fatto A livello Capitolino Che poi anche Con il tavolo Della 140 Preseduto Dalla nostra stessa Assessore Laurelli Qui nel territorio Prego Cannelli Grazie Grazie mille Della possibilità Di intervenire Dunque Io prima di tutto Penso che sia doveroso Fermo restando Che moltissime delle cose Che ci ha detto Libuti Sono da considerare E noi le condividiamo Però mi sembra Che ci muoviamo In un panorama Completamente diverso Io questo lo voglio dire Perché fino a poco tempo fa La situazione Della delibera 140 Sembrava insormontabile Creava problemi insormontabili Noi stessi Diciamo che aveva problemi Quindi Da una parte Esprimo soddisfazione Perché questo Va detto Soddisfazione Dovute cautela E critiche Mi sembra Che è già un risultato Almeno si può discutere Nel senso che È entrata in atto Una logica diversa E di questo Noi siamo contenti E siamo disposti Anche a Partecipare Per migliorare Per dare consigli Eccetera Quindi Prima cosa Ringrazio anche Il lavoro Che è stato fatto In particolare Dall'assessore Laurelli Da Presidente All'assessore Laurelli E da questa commissione Proprio su questo tema Così importante Perché voi sapete Che Parlo come Sant'Egidio Ma le altre associazioni Possono Sicuramente Rispecchiarsi In questi Trent'anni Sono stati tenuti In vita Dei servizi Che vorrei definire In alcuni casi Scusate Scusate Ciliperbole Proprio Salvavita Salvavita E salvaspazi Nel senso Che laddove E su questo Una piccola parentesi Sul discorso del privato Cioè laddove Gli spazi Vengono utilizzati Anche Magari In maniera regolamentata Io non Questo è un argomento Che non mi interessa E che Libuti giustamente Solleva Ma su cui Non ho riflettuto Su qualcosa Che non è Né pubblico Né sociale Ma aiuta A preservare Porzioni Di terri Maniera regolamentata Porzioni di territorio Porzioni Di stabili Voi sapete Che laddove C'è stato un abbandono Dei luoghi E il degrado E il degrado è cresciuto A dismisura E faccio l'esempio Della scuola In cui stiamo adesso Utilizzandola Come sede provvisoria Di un'accoglienza Notturna Di senza tetto Il luogo Il luogo Il luogo attualmente È presidiato È pulito È disinfestato È controllato Mentre viceversa È un luogo abbandonato Sono entrati lati Eccetera Quindi Tutti gli interventi Che mirano A preservare Anche l'integrità Dei luoghi Attraverso Delle attività Ci vedono favorevoli Poi sul fatto Del pregresso Noi siamo d'accordissimo È che è un fatto Che va chiarito E va regolamentato Il regolamento Su questo Ho letto Gli articoli relativi Lascia spazio Ma non È ambiguo Potrebbe andare In un senso Sfavorevole Alle associazioni Quindi Se c'è la possibilità Di correggere Il tiro Anzi di precisare Nella direzione Che voi Dicevate Diciamo Anche perché Forse andrebbe Sottolineato Quanto Trent'anni Ecco Mi sembra Una cifra giusta Che riflette Diciamo Il periodo In cui Di cui stiamo parlando Tra una delibera E l'altra Ma anche Di presenza Sono stati Trent'anni Di Di Riqualificazione Del territorio Quindi Questo va Diciamo Aggiunto Allo sconto Allo scomputo E molti luoghi Da Da ruderi Sono diventati gioielli Questo È vero E il regolamento Questo Non è Molto Preciso Poi Per quanto riguarda Invece Volevo chiedere Poi se ha tempo A Libuti L'articolo 13 Che parla Della segnazione A partiti Sindacati Ma non solo Partiti Sindacati Antimorali Internazionali Io non sono Contraria Perché Da questo punto di vista Non sono contraria Anche perché Le istituzioni Contemplate Sono diverse Quindi da questo punto di vista Su questo articolo Noi non abbiamo nulla da accepire Tra l'altro Uno dei pochi Che favorisce Diciamo Degli affidamenti diretti Che sono anche quelli Più semplici da fare E per il resto Ecco Condivido buona parte Delle Delle puntualizzazioni Che faceva Libuti Che ci aiutano A migliorare Questa delibera Ma nel complesso Sono contenta Che ci sia Questa delibera Ecco Ringrazio Chi ci ha lavorato Allora Grazie E a questo punto Io volevo Sollecitare i consiglieri Che in parte Mi hanno scritto So che Vorrebbero intervenire Quindi io Aprirei La finestra Di interlocuzione Poi magari Riprendiamo un attimo Le parole Che sono state dette Sia da Cannelli Che da Libuti Per svilupparle Nel dibattito nostro Quindi prego Per i consiglieri Che vogliono Prendere La parola De Iulis Prego Ah credo Già ci fossero Altri prenotati Allora sono il primo Arriveranno Grazie Presidente No no Dalle sue parole Ho capito Che già ci fossero Alcuni prenotati Ma guardi Presidente L'ho ascoltato Con molta attenzione Ringrazio anche L'Avvocato Libuti Perché Comunque Conoscendo la materia Aiuta anche noi A comprendere Certi meccanismi Però Inizialmente Sì Miliano Ti abbiamo perso Io volevo fare Una domanda Volevo chiedere Presidente Se oggi sono presenti I nostri Mi senti? Un po' male Devo essere sincero Adesso meglio Purtroppo io Spengo la telecamera Perché ho dei problemi Di connessione Se provo a spostarmi Altrimenti Adesso si sente Ok Allora provo A fermarmi Dicevo Non so se sono presenti I nostri uffici No No Presidente Io questa ormai È una richiesta Che la mia È una cantilena Che soprattutto Su materie Importanti Come queste Io credo che La presenza Degli uffici Sia assolutamente Su questa La fermo subito Ma semplicemente E questa è una critica Che io faccio al regolamento In realtà questo è un regolamento Accentrato Da questo punto di vista Cioè Il soggetto Che gestisce questa cosa È soltanto il dipartimento Quindi in realtà La presenza dei nostri uffici Diciamo Per competenza È purtroppo marginale Questo sarà uno degli altri elementi Su cui a me piacerebbe Spingere Particularmente Perché Non c'è Non c'è Non c'è Tassazione senza rappresentazione Non c'è Decentramento senza spostamento De poteri Allora Su Diverse cose Saranno Diciamo Una posizione marginale Da parte dei nostri uffici Ma io intendo Come presenza degli uffici Anche La stessa presenza Dei dipartimenti Perché se Diciamo I nostri uffici In questo momento Possono essere Non partecipi Non esperti In questa materia Allora ci deve Venire In soccorso La parte Che se ne sta occupando E quindi Perché no Una persona del dipartimento Che viene qua Ci spiega Assolutamente Questa delibera E magari Le criticità Che secondo loro Ci sono Ove Ve ne fossero Quindi Se non partecipano Gli uffici Municipali Naturalmente Dovrebbero partecipare Quelli del dipartimento Cioè Qualcuno ci deve Aiutare A fare delle scelte politiche Perché Lo dico sempre Non siamo tuttologi Almeno parlo per me Non sono un tuttologo Ci sono materie Che conosco meglio Per studio Per predisposizione Altre che conosco meno Ma il supporto Gli uffici Credo sia sempre Assolutamente importante Perché non è neanche normale Che poi magari Ci viene da fare una domanda E la facciamo E la facciamo all'associazione Perché è esperta in materia No Io Devo avere Il supporto degli uffici Perché Mi fido Delle associazioni Ma La risposta Che A una mia Eventuale domanda E non è una domanda Un gruppi politici Anche dal punto di vista economico Anche dal punto di vista economico Cose Piuttosto Importanti Per cui Sono d'accordo Poi Adesso Ricordo Se è il presidente L'assessore Che diceva Che dobbiamo Io l'ho persa Consigliere Non sento più Quindi è giusto Che anche su questo Ma naturalmente Io Non spero Che si arrivi A un decentramento Un pezzettino alla volta Ma che si rifaccia A una vera riforma A livello Parlamentare Con questa nuova Leggisellatura Che Sta per arrivare E dia Dei poteri specifici A Roma E Diciamo Ai municipi Ma questo Una divulgazione Scusate Ma Lo spero ovviamente Perché altrimenti Andiamo a rincorrere Alcune situazioni Decidere cosa fare Dei nostri spazi Assolutamente È importante Perché Magari In una zona Posso decidere Che è più necessario Ad esempio Fare una palestra Piuttosto che Un altro tipo Di attività Io Non chiuderei Neanche ai privati Ma naturalmente Come ce lo ricordavo Non a canoni agevolati Non chiuderei anche Ai privati Perché potrebbe essere Utile In un luogo Magari Non troppo sicuro Dico Una stupidaggine Magari Avere un punto Di riferimento Come un bar Che ci sia Magari in movimento Quindi su questa cosa Io Sarei anche Favorevole Ci sono anche Dei passaggi Che però Non vanno Almeno Non l'ho trovato Io Ma anzi Vanno in direzione Contraria All'assessore Laurelli Diceva che È la politica E io sono d'accordo Che deve Trovare La giusta collocazione Di un servizio Ma nella delibera Io leggo Che invece Sono i dipartimenti È il dipartimento Che assegna Ma non su suggerimento Su segnalazione È il dipartimento Che Ma c'è Mi è sfuggito qualcosa Mentre Riguardava Se non parlo All'articolo 7 Mentre per quanto Riguardava Diciamo L'assegnazione Della giunta Sul suggerimento Dell'assessore Bla 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 Si faceva riferimento Se non erro Alle partecipate La società partecipate Del comune di Roma Quindi Anche questa distinzione Cioè anche questa Sottolineatura Secondo me Andrebbe fatta Chi è Il comune di Roma Che fa queste assegnazioni E sul consiglio Di chi Per quanto riguarda I canoni pregressi Al quale si faceva riferimento Ecco Questa è una cosa Talmente complessa Che forse andrebbe Valutata Caso per caso Cioè è chiaro Che chi ha occupato Non ha pagato E magari ha rovinato Un immobile E non ci andrei Molto tenero Mentre ci sono Delle situazioni Che sicuramente Invece hanno Fatto un vero Servizio sociale E quindi Andrebbero in qualche modo Non dico aiutato Non dico aiutato Perché la legge È legge Insomma Però Andrebbero Viste con Con un occhio Sicuramente Diverso La norma Transitoria Al quale si faceva Riferimento Credo che Possa essere In qualche modo Utile La De Pivo Se non ricordo La Presidente De Pivo Diceva Faceva riferimento A 821 Immobili Circa Ecco Di fronte a questo A questo numero Così Così grandi Forse questa norma Transitoria Che in altre condizioni Poteva Non essere Proprio giusta Forse Invece potrebbe Diciamo Avere Un senso Sono d'accordo Con le associazioni Quando dicono Che sui criteri Si parla di sociale Ma poi Vengono dette Vengono dette Alcune cose Un pochino Non so se Contradittorio O confusionari Ma Che poi Potrebbero lasciare Un pochino Di discrezionalità Secondo me Nelle varie assegnazioni Ma È una cosa Che secondo me È fondamentale È fondamentale Inserire È che Noi Dobbiamo fare in modo Che a Roma Finisca Questa piaga Delle occupazioni Perché L'occupazione Significa Che qualcuno Si appropria Di un bene pubblico E poi alla fine Ci fa quello che vuole Talvolta Mascherando L'attività Dietro al servizio sociale Poi magari Invece che il servizio sociale Potrebbe essere Più un'attività commerciale Quindi per scopo di lucro Mascherando Questa attività E questo è inaccettabile Anche perché Il municipio Il comune L'amministrazione In generale Su quello stesso Immobile Invece poteva fare Un servizio Che Diciamo Ai cittadini Così facendo Ha Le spese Innanzitutto Non la può utilizzare Ha delle spese Magari che Quando se ne vanno Deve essere Messe a posto L'abbiamo visto Tante volte È successo E continua Purtroppo A succedere Non ha potuto Incamerare Dei soldi Non ha svolto Alcun tipo Di servizio Magari è costato Tra polizia Sgombe Carte bollate Eccetera Quindi Secondo noi Andrebbe messo Veramente Un punto definitivo Allora è chiaro Che il passato Va gestito Con delle norme Che riguardavano Il passato Ma credo Che su una Delibera Come questa Andrebbe messo Un punto Preciso Dove si dica In modo inequivocato Che chi occupa Non può Partecipare A nessun tipo Di bando Altrimenti Lasciamo spazio A persone Che non si comportano Come dovrebbero O magari Sono i professionisti Delle occupazioni Sanno come muoversi In certe In certe situazioni E lasciamo Diciamo Il fianco Scoperto A Diciamo A delle situazioni Che possono rovinare Quello che è il nostro Patrimonio Quindi io Credo che Un'osservazione Su questo punto Dovremmo Farla Cioè Chi da oggi in poi Si macchia Di occupazione Del patrimonio pubblico Non può più partecipare A bandi Per assegnazioni Dello stesso Credo che sia Qualcosa Di sensato Da aggiungere Non credo Che da parte nostra Ci possa essere Assolutamente Un voto favorevole Perché Questo è l'ultimo punto E poi concludo Presidente Sono andato Forse anche lungo Si è ricordato Insomma Di una delibera Poco condivisa Guardate che È proprio Dall'amministrazione Marino Che in questa città Secondo me Si è perso Questa Questa cosa Del condividere Nel scrivere Una delibera Coinvolgente Le associazioni Poi naturalmente È la parte politica Che decide Dopo aver ascoltato Decide Si assume Le sue responsabilità Ma non può farlo Senza ascoltare Il territorio Le associazioni Mi viene in mente Precedentemente Forse il caso Più eclatante Della scorsa consigliatura Era stata scritta Una delibera Sui doponimi Sulle associazioni Consortili Senza aver ascoltato Un presidente Di consorzio Ecco Credo che Questo Questo è stato Un pochino perso E dovremmo Assolutamente Come amministrazione Dico tutti E non lascio Fuori nessuno È una cosa Che assolutamente Va a ripresa Perché si è Un pochino perso Per cui Il nostro giudizio Al momento Su questa delibera Non è assolutamente Favorevole E Per noi È Veramente fondamentale Mettere Questa Questo articolo Sulle occupazioni Grazie Grazie consigliere Perdoni Controllo Un attimo Le altre mani Vedo Scusate Mi c'è un messaggio In chat Ok Il consigliere Pest Ci lascia Perché Deve fare Un'altra attività Istituzionale Vedo Massimo Mattei Se non ci sono Altri consiglieri Cederei La parola A lui Che è un Rappresentante Di una delle associazioni Nel nostro territorio Fra l'altro Di cui oggi È stato citata In più casi Io Soltanto una cosa Sul passaggio Dei privati Finalità commerciali Io però Cercherei Di mantenere Un po' Di accortezza Perché in realtà La cosa Sicuramente Può essere piegata A tante interpretazioni Ma sotto cui Io farei Un po' Di attenzione Perché All'interno Del regolamento Vengono richiamate Anche la possibilità Dello sviluppo Delle start up Delle librerie E di altre attività Di questo tipo E queste effettivamente Sono attività commerciali Quindi È vero Che c'è il riferimento Ai soggetti Delocalizzati Per l'attività petrolifera Che però sono Cioè Chi ha la concessione Sostanzialmente Delle cosiddette Pompe di benzina Che però Sono regolate Da un altro articolo Mi pare il 16 Se non sbaglio Però diciamo C'è quest'altro aspetto Commerciale Che viene gestito In un modo Completamente differente E Chiaramente Non incide Sul Canone ribassato Poi magari Se dopo Ci vogliamo prendere Cinque minuti Ci leggiamo Anche questi passaggi Un po' più Delicati Allora prego Mattei Se vuole Può Buongiorno Ciao Buongiorno Buongiorno a tutti E tutte E appunto Ringrazio anch'io Per Per la disponibilità Insomma Per Legittimo Il giusto interesse In fronti Di 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 questa Materia E in particolare Dell'associazione In particolare Poi il municipio Nono Si è da subito Dimostrato In questo Sensibile E Disponibile Poi ad aprire Un tavolo Proprio per affrontare Nel dettaglio Questa Questa questione Questione Che È arrivata È arrivata Appunto A Questa Questo Stato Di Confusione Irregolarità E Difficile Soluzione Non a causa Dell'associazione Insomma Comunque Delle realtà Che Utilizzano Questi beni Il primo punto Da A quale vorrei partire È proprio questo Nel senso Che Se nel 95 Appunto L'amministrazione Intelligentemente Affrontava E Offriva Comunque Una Soluzione A un fenomeno Che Allora Era Si era appena Presentato Quella appunto Delle Occupazioni O comunque Dell'utilizzo Da parte Di cittadini Di beni Abbandonati Da allora Sono passati Trent'anni Questo che Significa Significa Che In questi Trent'anni C'è Tutto Uno storico C'è Tutto Un L'amministrazione Può Appunto Prendere atto Di quello Che Ha funzionato E di quello Che non ha Funzionato Di quello Che le associazioni Hanno fatto Bene O male Di quelle Associazioni Che da allora Ancora Esistono E continuano A svolgere Le loro Attività E Soprattutto Di quello Che l'amministrazione Non ha fatto Perché Il presupposto Al quale Purtroppo Anche questo Regolamento Parte È un Fortissimo Pregiudizio Proprio nei confronti Le realtà sociali Cioè Sembra che Questa situazione Sia una situazione Nata Perché I cittadini In 30 anni Hanno Utilizzato In modo Fradolento E violento Nei confronti Del resto Della comunità Degli immobili Che non gli appartenevano A parte Che chi Utilizza Questi immobili Sono cittadini Cittadine Non siamo Non siamo Una parte Apolide Oppure Clandestina Che Si è appropriata Legittimamente Di qualcosa Che gli appartiene Sono immobili Che ci riguardano Sono immobili Di conseguenza Che essendo pubblici Ci appartengono E Di quali A un certo punto Abbiamo Deciso Di occuparsene Perché L'amministrazione Non se ne occupa Il fenomeno Delle occupazioni È un fenomeno Che ha Come Come Causa prima L'abbandono Da parte Delle amministrazioni Dei propri beni Cioè O meglio Dei beni Dei cittadini Di cui L'amministrazione Deve gestire Di cui L'amministrazione Deve gestire Perché Altrimenti Non ci sarebbero Occupazioni Perché Se no Si dà L'idea Che Ci sono Dei gruppi Delle bande Che occupano Degli infici Occupano Degli immobili Dei locali Pienamente funzionanti Pienamente produttivi E così A danno Degli altri Ma non è così In questi trent'anni Quindi Queste realtà Hanno recuperato Questi beni Restituiti Alla cittadinanza E continuano A svolgere In essi i servizi E a mantenerli Quando l'amministrazione Infatti Tra i criteri Che in questo regolamento Sono citati All'articolo 21 Questo è il primo punto Ne affronterò due Proprio per Essere Il Più Breve E sintetico possibile Articolo 21 Ci sono i criteri Per la valutazione Dei progetti E la selezione Dei concessionari E ci sono Al comma 4 Dalla A All'H Tutta una serie Di elementi Per la valutazione Come la qualità Progettuale Potenziale Impatto Sul tessuto sociale Effetti Del progetto In termini Di qualificazione Prospettive Di nuova occupazione Possibilità Di fruzione Del bene Dei cittadini Legame Con il territorio Sostegno Alla proposta Progettuale Da parte Di soggetti Terzi Rappresentativi Del territorio Sostenibilità Economica Allora Di questi criteri Tutti questi Sono pienamente Soddisfatti Della realtà Che attualmente Utilizzano questi beni Noi per primi Siamo sostenibili Abbiamo legame Col territorio Abbiamo un Impatto Sul tessuto sociale Culturale Del territorio Eccetera 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 Allora Non si capisce Come mai Poi Non viene Naturalmente Previsto Che Chi Ha già Soddisfatto Chi già Nell'attività Che svolge All'interno Dei locali Soddisfa Pienamente Questi criteri Non gli venga Automaticamente Fatta la concessione Cioè C'è indicato Che costruisce L'elemento Premiale La circostanza Che il 40% Di soci Abbiano Un'età Inferiore A 35 anni Ok Però La sostanza Poi La base Dal quale Tutto questo Parti Viene Completamente Ignorata Perché Se Non si parte Da un dato Reale E il dato Reale È sia Questo Sia Che ho appena Detto Sia Un'altra Cosa Fondamentale Senza Il quale Si possono Fare Tutti i Regolamenti Che vogliamo Anche Quelli Scritti Nel miglior Modo Possibile Ma non Si raggiungerà Nessun Obiettivo Neanche Quelli Minimi È che Alle associazioni E ai cittadini Si possono Chiedere Come Poi Indicato Nell'articolo 42 Nell'articolo Che riguarda Appunto Le norme Transitorie Si possono Chiedere Di mantenere Continuare A svolgere Le attività Pagare I cani E tutto Quanto Però Poi La domanda Che cittadino Si pone Ma L'amministrazione Tutto questo Che ruolo Ha Quali Obblighi Innanzitutto Perché Si chiede Di mantenere Il bene Continuare A mantenere Il bene Cosa Chiaramente Fatta In decenni E Continuare A svolgere Le attività Previste Dal titolo Originario Cioè Attività Non profit Però Non Non È indicato Il caso In cui Tutto questo Non è possibile A causa Del Malfunzionamento Degli uffici E Degli uffici Capitolini Perché Se nel momento In cui Il L'attività Che La situazione Svolge È compromessa Da Una Da una Condizione Diciamo Dell'immobile Rispetto al quale Roma Capitale Non è mai intervenuta Faccio l'esempio Nostro Cioè Se in Vent'anni In cui Siamo Durante i quali Siamo stati Appunto Lì A via Carlavoglio Il Tetto Subisce Delle Gravi Infiltrazioni E in Questo In Vent'anni Il Roma Capitale Non è riuscito A intervenire E Chiaramente Una situazione Del genere Compromette Inevitabilmente Quanto meno Limite Le attività Che si svolgono All'interno Come può Pretendere L'amministrazione Che Poi Una Manutenzione Da parte Diciamo Delle Associazioni E soprattutto Il pagamento Dei canoni In Una situazione Che dipende Totalmente Da questa Come dipende Totalmente Dall'amministrazione Il fatto Che ci sia Che in seguito All'assegnazione In vent'anni Non ci sia stata Una concessione Cioè Non ci sia stata Una definizione Di un canone Non ci sia stata Una definizione Dei criteri Sulla quale Stabilire Questo canone Visto che Quando Siamo entrati In possesso Del bene Il bene Era abbandonato Ok E visto Che poi Addirittura Al comma Uno Dell'articolo Quarantadue Questo è previsto Anche Precentemente Fatta salva La regolarità Edilizio Urbanistica Del bene Che in mancanza Dovrà essere Conseguita In conformità Alle Vigenti Normative Senza nulla Pretendere In confronto Di Roma Capitale Cioè Il bene Irregolare Non è Catastato Ad esempio Non ha L'agibilità Non è Il nulla Osta Non è Il progetto Il progetto Di impianto Elettrico E tutto questo Deve occuparsene Un'associazione O una realtà Tra l'altro In un regime Transitorio Premesso Inoltre Considerando Il fatto Che ogni Volta Che si va A Dipartimento Piuttosto L'ufficio Municipale Per poter Chiedere Questi documenti I primi due mesi Vengono persi Per capire A chi Quale Di due uffici È competente Noi In questi anni Nel momento In cui Siamo andati a chiedere I documenti Che l'amministrazione Doveva avere Avrebbe dovuto dare A noi Abbiamo perso Due mesi Ogni volta Perché Il dipartimento Ci mandava Dal municipio Il municipio Dal dipartimento Definito questo La risposta Era che il documento Non c'era Che il documento Era perso Che il documento È un archivio Che era occupato Che il documento Dovamo farcelo noi Allora Nel momento In cui Si prevede Un nuovo regolamento E non si tengono In considerazione Elementi Di come questo Allora È tutto Semplicemente Campato per aria Perché Anche Una nuova Assegnazione Una nuova realtà Assegnazione Che dura Sei anni Se questa realtà Poi In quei sei anni È costretta A investire Per recuperare Il bene E quindi Renderlo Idoneo Per svolgere L'attività Perdere anni Tempo E lavoro Per seguire L'incapacità E la disorganizzazione Degli uffici Oltre che l'ignoranza Come veniva prima Rilevato Cioè Mi spiegate Che tipo Che tipo Di vantaggio L'associazione Può avere A poi Chiedere O comunque Utilizzare Quel patrimonio E soprattutto Che tipo di vantaggio La L'amministrazione Può ottenere Da un Un provvedimento Che nulla dice E nulla risolve In questo senso In tutto questo Considerando Che poi Nel momento in cui Come appunto Prima si ricordava Rispetto al pregresso Non viene detto Niente Anzi Viene addirittura Detto che Nel momento in cui L'utilizzatore Volesse Presentare Istanza Per l'aggiudicazione Del bene Una delle condizioni È Che l'utilizzatore Sia in regola Sia in regola Con i pagamenti Secondo quanto Previsto Dal presente Articolo Anche qualora Non siano state Precedentemente Richieste Cioè Questo regolamento In modo fraudolento In totale Malafete Prevede Proprio Situazioni Come quella nostra Per i quali C'è una causa In corso E per i quali L'amministrazione Quindi Dovrà andare avanti Intanto per anni Prima che la causa Venga definita Ma soprattutto Senza poi Minimamente Senza minimamente Considerare Quelle che sono Le proprie Responsabilità Ma che significa Anche qualora Non siano state Precedentemente Richieste Cioè L'amministrazione Dopo vent'anni E Capisce Che Non ha fatto Il suo dovere Non ha neanche Rispettato Poi Quelli che Le chiedo Di iniziare A concludere I diritti Delle realtà Perché Nel momento In cui Vent'anni fa Noi L'amministrazione Avesse dovuto Definire Un canone Che Ci rendevamo Conto Di non poter Sostenere Noi avremmo Riconsegnato Il bene Dicendo Guarda Grazie Veditela tu Il bene Sarebbe rimasto Ancora così Come è Per il 50% Perché via Carla Voglio Per il 50% È ancora Semi Abbandonato E quindi Questa sarebbe Stata la situazione Però Di sicuro Avremmo risparmiato Vent'anni Allora Tutto questo Se non Non viene Preso in considerazione E Non farà Altro che Proseguire Sulla strada Che è stata Intrapresa Nel 2015 Perché Nei contenuti Questo regolamento Non smuove Niente Rispetto Ai precedenti Proposte Grazie 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 Mattei Vedo Bellassai Prego Grazie Presidente Allora Partirei Da delle note Positive Poi magari Cercherò Di evidenziare Degli aspetti Che invece Non mi convincono Beh Intanto Ovviamente La complessità Del problema Della problematica È evidente Era evidente Già prima Ma insomma Dopo questo dibattito Soprattutto Dopo Gli interventi Dei nostri ospiti Che ringrazio Tutti Per il modo Chiaro E per il modo Intellettualmente Onesto Ognuno dal suo Punto di vista Ovviamente Con il quale Hanno affrontato L'argomento Rende Veramente Ancora più evidente Un fatto Del quale Noi Noi Che facciamo Parte Dell'amministrazione In varie vesti Maggioranza Opposizione Ci rendiamo Conto Da tempo E cioè Che Questa Era una situazione Assolutamente Insostenibile E che La gestione Dei beni Come ha detto Giustamente La Presidente Di Salvo Rappresenta Uno dei Problemi principali Dei quali L'amministrazione Si deve fare carico Ogni amministrazione Si dovrebbe fare carico Sia in relazione Al fatto Che i beni Non vengono adeguatamente Utilizzati Con scopi sociali E quindi a favore Dei cittadini E sia Lasciatemi dire Anche In relazione Al decoro Al fatto Che abbiamo Dei quartieri Nei quali Disseminati Di edifici Abbandonati Che l'amministrazione Non è in grado Di gestire E che l'amministrazione Non è neanche in grado Di assegnare A chi potrebbe Utilmente gestirli Quindi la nota Positiva È che dal mio Punto di vista Essendo Un Neofita Della politica Cioè uno Che sta partecipando Per la prima volta Nella veste Di consigliere All'attività politica Sul campo Non posso Che rilevare Con favore Il fatto Che l'amministrazione Si sia presa L'onere Di definire Il regolamento Ovviamente Però Quando una situazione Sul territorio È incancrenita A livello Alla quale È incancrenita Questa Cioè la gestione Dei beni comuni E l'assegnazione Ad associazioni In varie Diciamo Forme Cioè sia Lasciatemi dire Legittime Che illegittime È chiaro Che un regolamento Di questo genere Va Attentamente Valutato E analizzato Perché Nasconde Tra le righe Molte Perplessità Come dicono I saggi Il diavolo È nei dettagli Si nasconde Nei dettagli Ed in effetti Nei dettagli Si scopre Che ci sono Meccanismi Che questo regolamento Cerca Di regolare Che in realtà Non riuscirà A regolare Molto probabilmente Non riesce A sanare Soprattutto Si tratta Di meccanismi Di calcolo Dei canoni Dei lavori effettuati Dei lavori effettuati Significa Non soltanto Delle opere Realizzate Da chi ha utilizzato Queste strutture Fisicamente Ma anche Dell'impegno Che queste persone Hanno posto Nel gestirle Che è difficilmente Quantificabile Tra l'altro In un ragionamento Di scomputo Del lavoro fatto E delle opere Realizzate Rispetto al canone Applicato Questo mi sembra Un aspetto Non da poco Venendo Alle Perplessità La prima ovviamente Riguarda Il decentramento È stato citato Più volte Nella nostra discussione La Presidente Ci ha fatto Giustamente notare Che in mancanza Di un diverso Rapporto Statutario Tra il comune E i municipi È difficile Introdurre Effettivi Effettivi poteri Di decentramento Nel municipio Però francamente Io ho letto Il regolamento Non mi pare Neanche che venga Auspicato Questo decentramento Cioè io Vorrei In termini Di Osservazioni Vorrei che venisse Fatto notare Che questo Decentramento È necessario In generale Perché siamo Tutti Molto consapevoli Del fatto Che i municipi Così come sono Hanno ben poco potere E ben poca possibilità Di incidere Sul territorio Ma venga Appunto Venga citato Almeno in termini Potenziali Cioè voglio dire In questo campo Tra gli altri In particolare Un effettivo Decentramento È la chiave Per l'effettivo Funzionamento E l'applicazione Un regolamento Del genere Perché il territorio Lo conosce Evidentemente È molto meglio Chi lo amministra Direttamente Chi lo vive Direttamente E perché dopo Che saranno stati risolti E speriamo che lo siano Tutti i nodi Che renderanno Molto complicata L'assegnazione O la riassegnazione O anche L'esproprio Di determinate strutture A chi non ne avrà Si dimostrerà Che non ne avrà diritto Sarà fondamentale La funzione di controllo Da questo punto di vista Volevo anche Far notare Che è stato detto Che la delibera 140 Era figlia Di una situazione Di illegalità E quindi Di particolari condizioni Sociali Legali Vorrei far notare Che l'illegalità Non va Diciamo che non è sparita Non è stata ancora abolita E quindi Da tutti i punti di vista Mi sento di condividere Chi Fa notare E auspica Che l'applicazione Il regolamento in sé E poi la sua applicazione Siano ispirati Alla massima legalità Che deve rimanere Un parametro fondamentale Però anche in questo caso La situazione Non è così semplice Cioè non basta Applicare la regola E dire Chi ha diritto Ha diritto E chi non ha diritto Non ha diritto Perché mi sento di appoggiare Con calore Ma con convinzione Per averla vissuta Sentita Insomma vicina In associazioni Che conosco E che frequento Quanto ha detto Il signor Mattei Cioè è vero E non può essere Ignorato Dall'amministrazione Che Quando è l'amministrazione Che non è in grado Di gestire i suoi beni Quando è l'amministrazione Che non fornisce Risposte Non ha fornito Non ha fornito per anni Risposte agli stanti Cioè a coloro Che chiedevano Di poter utilizzare Dei beni abbandonati Di poterli utilizzare A fini sociali E ovviamente Tutte queste verifiche Vanno fatte Cioè è chiaro Che lo scopo Deve essere aderente All'obiettivo Però quando è l'amministrazione Che non è stata in grado Di rispondere Sostanzialmente E qualcuno Ha preso l'iniziativa Di cominciare A utilizzare Queste strutture E le ha effettivamente Utilizzate a fini sociali Adesso non si può dire A questa gente Che ha commesso un illecito E non si può dire A questa gente Che tutto quello Che ha fatto Deve essere cancellato E che non si può Addebitare a questa gente Quella che è stata Un'inadimpienza Fondamentalmente Dell'amministrazione E quindi anche questo È un aspetto Molto delicato Che non mi pare Effettivamente Che il regolamento Affronti nel modo dovuto E con la dovuta onestà Da parte di un'amministrazione Che si prefigge A quanto avete detto Abbiamo detto L'obiettivo Di sanare una situazione Per il bene Dei cittadini E quindi a scopo Prettamente sociale Io ribadisco In conclusione Quindi Che naturalmente Mi aspetto E auspico Che noi faremo Delle osservazioni In tutti questi sensi Auspico anche Che il regolamento Non venga approvato In questo momento E così com'è Perché risulterebbe Fondamentalmente Imposto dall'alto E quindi partirebbe Col piede sbagliato Auspico anche Che si Chiariscano meglio I meccanismi di controllo Successivi Cioè quando tutto questo Sarà regolamentato Che i meccanismi di controllo Siano molto ben chiariti E molto E molto effettivi Più che soltanto Dichiarati Auspico che venga Inserito un richiamo Specifico Alla decentramento Alla necessità Di una gestione Decentrata In particolare In questo campo E che ovviamente Nell'emore Che questo decentramento Si realizzi Ma credo che comunque Sarebbe un ottimo segnale E da ultimo Esprimo un parere Essendo un politico Esprimo un parere Specifico sull'articolo 13 Non ritengo Che sia Sbagliato Prevedere L'assegnazione Anche a sindacati A enti di altro genere Ma anche a partiti politici Perché credo che Riavvicinare I cittadini Alla politica Anche attraverso La creazione Di sedi fisiche Nelle quali la politica Si possa fare attivamente La possano fare attivamente I cittadini Rappresenti Un obiettivo nobile Grazie Presidente Grazie Grazie consigliere Bellassai L'ho promossa sul campo Allora Io Sono le 11 un quarto Volevo soltanto fare un passaggio E' chiaro che poi Le situazioni Soprattutto se vissute all'interno Diventano Completamente Difficili da gestire Quindi E come dire Faccio un ragionamento generale E' ovvio che Come dicevo In premessa Della giornata di oggi Questo qui E' un regolamento Che sicuramente E' perfettibile Però mi sento Di ribadire Che sotto molti aspetti È un regolamento Che entra sugli argomenti Che dà E fissa Dei paletti Che Apri a delle tematiche Nuove Nuove Fra virgolette Cioè Con una gestione Unificata Se vogliamo Perché la gestione Dei beni Sequestrati La gestione Del patrimonio Del comune Viene introdotto Oltre al terzo settore Anche la valorizzazione Della parte Artigianale Commerciale Ma culturale Come le librerie Le start up Quindi quel mondo Imprenditoriale Che in un Regime di mercato Avrebbe difficoltà Ad avere Cittadinanza Perché questo Mi sembra forse Il termine Più corretto In questo caso Cioè Fissa una serie di punti Quindi da questo punto di vista Io lo vedo Assolutamente In modo positivo È chiaro Che questo regolamento Deve essere Perfezionato Sotto alcuni aspetti Soprattutto per quegli aspetti Che riguardano Il passato Su cui abbiamo detto E siamo intervenuti Tutti quanti Ma lo dico E lo diciamo Tutti quanti noi Anche sulla base Di un'esperienza Molto chiara Cioè che noi Conosciamo Qual è lo stato Degli immobili E delle situazioni Degli immobili Comunali E quindi comprendiamo Che non c'è Una casistica Ma che c'è Un ventaglio Di situazioni Che Su questo Corrego anche L'intervento Accorato E che capisco Di Mattei Ma che In realtà Visto Visto che la storia Degli immobili È ultra Trentennale Perché abbiamo immobili Almeno in questo territorio 50 E anche qualcosa di più In realtà La questione Urbanistico edilizia Diventa Se vogliamo Anche più complessa Ma da un certo punto di vista Anche semplificata Perché in realtà Si stratificano Dei requisiti Di legge Che erano tali Allora E che oggi Sono differenti Ma che Palesemente Anche se sarà richiesto Chiaramente Un intervento Che è Carificatorio All'amministrazione Non possono essere Come dire Pretesi oggi Cioè Se negli anni Ottanta Le scuole Non era obbligatorio Andarle Ad accatastare Oggi Non si può Pretendere Che un privato Del terzo settore Si sobarchi L'accatastamento Di un intero Lotto Pubblico È ovvio Che non è così Ma perché Perché Così come Per gli standard Urbanistici Così come Per gli standard Edilizi Oggi Non si può Pretendere Che quella cosa Venga aggiornata Questo mi sembra De plano Così come Il richiamato Passaggio Che si faceva Nell'articolo 42 Al fine di Consentire L'operazione Provedeutica Allo svolgimento Delle procedure Di assegnazione Tra cui Interventi Finalizzate La regolizzazione Urbanista Edilizia Il detentore Obbligato A far accedere Il bene Immobile Al personale Amministrazione Capitolino A soggetti A essere delegati Ovvero Altri soggetti Interessati Della procedura D'assegnazione Dell'immobile Nonché Consentire La disponibilità Del bene Per eseguire Eventuali Interventi Edilizia Quindi è chiaro Che anche qui Si apre Al diretto Intervento Dalla parte Pubblica Sull'immobile Oggetto Di sanatoria Di sanatoria Dal punto di vista Dell'assegnazione Quindi Del titolo Che poi La singola Associazione Per dirla In modo Molto breve Avrà Quindi Da questo punto Di vista Ribadisco Vanno fatti Sicuramente Degli aggiornamenti Però bisogna Anche Leggere Il regolamento Nel contesto Normativo Anche Su un profilo storico In cui si inserisce Perché altrimenti Chiaramente Non avremmo i criteri Perché ci sarebbero Delle strutture Che non Semplicemente Non rientrano Negli standard Edirizio urbanistici Attuali Ma non se ne potrebbe chiedere Altrimenti Dovremmo abbatterle E ricostruirle Borrelli Prego Io vi chiedo Soltanto Un po' di brevità Perché insomma Siamo Verso Ve leggiamo Verso I margini Della commissione Sì grazie Presidente Di cose Ne sono state dette Tante Tutte importanti Ce ne sarebbero Di dire Altre tante Perché evidentemente La proposta È decisamente Articolata E come dire Non Non secondaria Nel senso che Sia per la mole Di ambiti Di intervento È il motivo Per cui L'affrontiamo Tra l'altro In quattro commissioni Specifici Oltre che poi L'iter ordinario Sia la delicatezza Del tema Perché evidentemente Investe Come dire Il vissuto E anche L'azione sociale Politica Di Di attivisti Che nel territorio Da anni E da decenni Comunque ci sono Ci sbattono Passatemi il termine Infelice Da un punto di vista Lessicale Ma che rende l'idea Da un punto di vista Sostanziale Oltre che il funzionamento Dell'amministrazione La concezione Del proprio patrimonio E l'utilizzo Dello stesso Io la dico Come l'ho percepita E come la percepisco Io penso Che ci sia Un elemento Di coerenza Tra quanto Declamato In campagna Elettorale Cioè Il superamento Della 140 E questa proposta Fattiva Lo dico Consapevole Che la proposta Nello specifico Oggetto della discussione Di oggi È carente Su alcuni punti Su cui Se ho tempo Intervengo successivamente Su uno Cioè gli effetti Della 140 Sicuramente Riservo almeno Un paio di minuti Di intervenire Ma consapevole Di un punto Lo ricordava adesso Il presidente Cagliardi Cioè Che è oggettivamente Complicato E quindi È stato Politicamente Secondo me Importante Agire Su temi Che Come dire Vivono Su un vissuto Stratigrafato Da decenni Cioè Ci troviamo In una situazione In cui negli anni Si sono accumulate Situazioni Che come dire Rendono più complicata La gestione Dell'esistente Se non per inerzia No? Sapendo che Pende Sulla testa E aggiungo Sulle cartelle Sattoriali E non solo Dei singoli Responsabili Di associazione Delle spade O di Damocle Che sono Evidentemente Le cartelle Sattoriali Che sono Per alcuni I sigilli Che sono Provvedimenti Che io mi rendo conto Che non so Atti come dire Secondari Per cui io In questo Lo dico subito In premessa Non posso Che ribadire La vicinanza Umana E politica Alle associazioni In particolare Oggetto Della 140 Delibera 140 Su cui Imparecchi Sicuramente La maggioranza Io parlo per me Però è evidentemente Punto condiviso Credono Vada superata E il regolamento Io credo Vada in questa direzione Pur consapevoli Che c'è un tema Cioè Ne nomino uno Perché Possiamo Scusare nei dettagli Ma non essendo Noi l'assemblea Capitolina Come dire Il nostro Margine Di discussione Decisione Fattiva Dei dettagli È oggettivamente Secondario Quindi Possiamo sicuramente Farlo Per carità Però io Suggerisco Di concentrarci In questa sede Per i nostri Poteri specifici Sul punto politico Cioè Gli effetti Della 140 Perché mi sembra Chiano Che la proposta Di deliberazione E il conseguente Regolamento È stato ricordato I forum Il portale del patrimonio Il ruolo dei municipi Che c'è Comunque Va sicuramente Potenziato Indubbiamente Anche eventualmente Con osservazioni Che sono d'accordo Il comitato tecnico Il ruolo Dei singoli dipartimenti La finalità Dei beni E Come dire La non tolleranza Sul fatto che Cioè Il punto su cui Bisogna essere Politicamente Intollerabile È che esistono Beni Pubblici Vuoti Dismessi Abbandonati Non Come dire Prendere atto Che esistono Situazioni complicate Situazioni complicate Che vanno risolte Questo secondo me È il tema Ma Questo secondo me È il tema Cioè I responsabili Delle associazioni Su cui La cui testa Pende Una cartella Sattoriale Che chiede Decine di migliaia Se non centinaia di migliaia Se non qualche milione In alcuni casi specifici Di euro Di debito Per regresso Va affrontato Ora io Ho ascoltato Negli ultimi giorni Un po' di riposo Tra brigo e testivo Alcune commissioni Capitoline Quella patrimonia In particolare Mi sembra che il presidente Trombetti Tra l'altro citando Anche Non le osservazioni In senso specifico Ma immagino Che il senso Se lo stesso poi Ovviamente Non lo so Nello specifico Però alcune osservazioni Tra virgolette Nei fatti Di Caio Così cito Entriamo nel merito Mi sembra che dichiarasse Una disponibilità A proseguire L'interlocuzione Anche in quella sede Ora io non lo dico Per rimandare la palla Indubbiamente Ovviamente Ma lo dico Perché secondo me Sarrebbe erronea La percezione Che ragioniamo Di una proposta Su una proposta Definita Cioè ragioniamo Su una proposta Che è un prima Cioè mesi di interlocuzioni Comunque esistite Sia a livello capitolino Sia a livello municipale E il ruolo del municipio Mi sembra che in questo Sia stato ricordato Ma non come Riconoscimento Rituale O di facciata Ma come ruolo politico Che il municipio Ha voluto e vuole Tuttora esercitare Ma consapevoli Che di fronte A una proposta Specifica Come dire Le osservazioni Vanno circoscritte Altrimenti Il rischio Di riaprire Tu cura Una discussione Complessiva E portarla avanti Per anni Perché questo è il punto In una situazione Di inerzia Che nei decenni Si trascina Indipendentemente Dalle urgenze Più o meno gravi Questo è il punto È reale E secondo me È un rischio Che va evitato Ecco io la dico Politicamente In questo modo Quindi io penso Che si possa E si debba Anzi debba Politicamente Ragionare Su Sospensioni Ovviamente Di richieste Di pagamento Ovviamente Vedere situazioni Di Come dire Di cancellazione Della richiesta Di debito Progresso Non ho problemi A esercitarlo Sapendo che Non tutti i casi Sono uguali È ovvio Ma sapendo Ma sapendo anche Che i presupposti Su cui è calcolato La stima Diciamo Del valore Catastrale Dell'immobile In alcuni Se non in molti Casi Come dire Si poggiano Su situazioni Mettiamole Labile Cioè locali Che non sono Accatastati Locali In cui la destinazione D'uso Non è chiaro Locali Che insistono In quartieri Assai degradati In cui C'è Alcuni Ragionamenti Politici Sociali Vanno fatti Alla luce Dei fatti Oggi Secondo me Cioè Che viviamo Una situazione Drammatica Da un punto di vista Sociale In una situazione Pandemica O post pandemica Mettetela come volete Però il senso è quello In una situazione Di precarietà In una situazione Di guerra E di Come dire Inflazione Quello che sia No? È chiaro il quadro In cui Il ruolo sociale Esercitato Da delle associazioni Ha un valore Ora io mi rendo conto Che la categoria Il valore No? È In parte erronea In parte arbitraria Ma in parte rende Cioè Alcuni Servizi Esercitati Da alcune realtà Hanno Implicitamente Un valore Un impatto Ecco So che la categoria Non è Condivisa da tutti Però Un impatto Che tra l'altro In questa proposta Di liberazione Viene riconosciuto Quindi si va anche In alcuni casi Oltre Il ragionamento Dello scomputo Dell'80% Riconoscendo un valore Di impatto sociale E ambientale Cioè La proposta è assai Articolata Secondo me Su alcuni punti Oggettivamente Va'è chiarita Uno di questi Errori Municipi E la effettiva Disponibilità Del patrimonio Uno L'effettiva Conoscenza Mettiamo a monte Perché è un elemento Diciamo imprescindibile Due L'effettiva Disponibilità È previsto È normato Il meccanismo Della deliberazione E secondo me E secondo me Questa è una cosa Positiva Delle assemblee Municipali E dell'assemblea Capitolina Anche perché Il municipio È l'organo Come dire Non sono intermedio Di prossimità Ma di conoscenza Reale Delle associazioni Dei quartieri E della destinazione Reale Penso che questo È un punto Che ovviamente Non può Un municipio Risolvere È un punto Su cui un municipio Può e deve Discutere Secondo me E nelle commissioni Di questi giorni Io penso Che troveremo Anche il modo Di discuterne Insieme Fattivamente E quindi Anche in vista Del consiglio Municipale In cui esprimeremo Come dire Il nostro parere Ma parallelamente Questa partita Va agita Anche in quello Che è l'ambito Principe Deputato Ad affrontare La situazione Che è quello Capitolino In cui la partita Oggi non è chiusa Quindi questo Secondo me È utile Saperlo Perché su questa Deliberazione È chiudo A differenza di altre Oggettivamente Stando Diciamo A quanto Dichierato Pubblicamente Come dire Non solo La commissione competente Non si è ancora espressa Perché c'è un iter Dei municipi Ma Come dire Questi temi Non sono Accessori O residuali Ma sono parte Di un ragionamento Che va Affrontato E io spero Politicamente risolto Mettendo un punto Ecco Chiudo Cioè Se noi riuscissimo Nei prossimi mesi Spero mesi Non anni E per questo L'urgenza della tempistica Paradossalmente Più su questo Che in altri casi A mettere un punto Su alcune spade Che pendono Sulla testa Delle persone Ridando Legittimità Anche formale A chi sostanzialmente Già ce l'ha Ma che vive Questa situazione Di ambiguità E di illegalità Da un certo punto di vista Dovuta Dovuta anche Alle difficoltà Dell'amministrazione E non solo Io credo Che avremmo fatto Un servizio Effettivamente Al bene comune Per cui spero Che potremo Lavorare in questa direzione Tutti e tutti insieme Anche con le associazioni Grazie Grazie Presidente Grazie Delle morosità Limitandolo a cinque anni Quindi tutti questi elementi Io li inserirei Però Con l'accordo Di mandarli Nella commissione Di venerdì Patrimonio In modo Di poterli Poi Avere anche Questi giorni E poterne discutere E fare un unico giorno In cui si vota Globalmente Le osservazioni Che sono state Prodotte Mi sembra Il metodo Di lavoro Più lineare E più costruttivo Sull'ultima cosa Volevo dire Volevo richiamare Che il valore Che viene utilizzato Per il calcolo Questo Per chiarezza Rispetto a quanto Diceva prima Borrelli È il valore Mediomi Quindi ha un valore Differente Rispetto a rendite Catastali E tutto il resto Che però Nello specifico Nel nostro municipio Aprirà un problema Come dire Più volte Ribadito anche Dalla cittadinanza Che è la congruità Diciamo Rispetto alla realtà Del valore Che l'agenzia Delle entrate Dell'osservatorio Delle agenzie Delle entrate Ha dato Perché per esempio Un caso su tutti Io non so se avete mai Avuto modo di vedere Ma i valori Omi Del laurentino E le rendite Catastali Sono Senza timore Di dire Assurde Rispetto allo stato Reale Dei luoghi Molto Molto Più alte Di zone Come dire Centrale E con altre Estrazioni Sociali Come sono Il torrino Come è Decima Come è No Castellaccio È l'unico Che non viene Preso in considerazione Perché diciamo Partiamo con valori Medi particolarmente Altri Che arrivano Fino a 2400 euro Al metro quadro Insomma Stiamo parlando Di zone Di tutto rispetto Dal punto di vista Catastale De vivo Prego Poi bagli occhi Grazie Presidente Io parlerò Veramente Sarò brevissima Perché Voglio Lasciare spazio Anche agli altri E già sono intervenuta Prima Come dicevo Io Sono Effettivamente Cioè Questa nuova proposta Cambia proprio Direzione Rispetto a tutte Le altre E non Non perché L'ha fatta Zevi O la nostra Amministrazione Ma perché Oggettivamente È così E quindi Io Non Sarei per Non sono per Approvarla Ma con tutte Le osservazioni Preziosissime Che oggi Sono state Espresse In questa In questa Commissione Sicuramente Sono importantissime Le osservazioni Che ha fatto Mattei Anche Alcune Osservazioni Che ha fatto Giuseppe Libutti E quindi Ci impegniamo Come ha detto Prima Il Come ha detto Prima Anche Gaiardi A scrivere Queste osservazioni Presentate Nella commissione Finale Qui c'è Anche Roberto Baiocchi Dove possiamo Di nuovo Osservarle Completamente Per portarle Così integralmente Alla Alla Discussione In consiglio È ovvio Che anche In consiglio Si può Ancora Il tempo Di emendare Ma io credo Che sia fondamentale Per noi Ribadire Alle persone Del Comune Che Che sono Che le nostre Osservazioni Non sono Vincolanti Ma che Devono essere Ascoltate E recepite All'interno Del regolamento Su alcune cose Dette Sono particolarmente D'accordo Come anche Una cosa Che ha detto Anche Il consigliere Deiulis Sul fatto Che sia Il dipartimento A fare Le assegnazioni Io immagino Che Mi sono immaginata Che il dipartimento Fa le Determine Ma anche Ho visto Analizzando Alcuni dettagli Sono anche Alcuni Altri enti Che possono fare Le assegnazioni Io spero Che queste assegnazioni Siano comunque Frutto del forum E quindi C'è questo collegamento Fra il forum E le assegnazioni Che secondo me Su queste cose Si deve Assolutamente Anche su questo Si deve Si può raffinare Per specificare Meglio questa cosa Niente Passo la parola A Roberto Al successivo Perché non voglio Rubare tempo Alla discussione E quindi Ho finito Grazie Prego Bagli occhi Grazie presidente Allora Diciamo che Questo regolamento Lo prendiamo Come un primo passo Una prima luce Dopo Trent'anni Trent'anni Quarant'anni Di buio totale È una prima Lampadina Che vediamo In fondo La luce In fondo Al tunnel Io direi Che Lo prendiamo Anche come Un segnale Di quelli Che sono stati I risultati Dei tavoli Della 140 Che abbiamo fatto Il municidio E l'ultimo Quello al Casale Di Viagatto Dove c'era Sia l'assessore Zevi Che il presidente Trombetti Della commissione Bilancio E il primo scopo Però non ci devono Bloccare oggi Nell'esame Di questo regolamento Perché sono discorsi Che devono essere affrontati Poi successivamente Ma possiamo dare Nelle osservazioni Che possiamo evidenziare noi In un certo senso Una strada da seguire Sicuramente Nell'osservazione Dobbiamo mettere Annullamento O revisione Degli effetti Della 140 Rifare i conteggi Con gli ultimi 5 anni Al 20% Di canone Dopo il completamento Del censimento Patrimonio In carico ai municipi Così come Gli incassi Degli affitti Ed il relativo controllo Del pagamento Degli affitti Perché anche Il rilascio Delle fideiussioni Che sono previste In questo regolamento Lasciano il fianco A parecchie critiche Perché non si riesce A capire bene Il meccanismo Delle fideiussioni Sono d'accordo Con Consigliere De Julis Per stroncare Le occupazioni Delle Irregolari Particolarmente Per quelle Non a scopo sociale Qui c'è S'occupazione Non a scopo sociale Preso occupato Che significa Via Escono Come sono invece Disponibile Al Affitto Ai privati Perché no Commercialmente parlando È chiaro che Quando si fa Si ha una richiesta Di un privato È previsto Mi pare Dal regolamento stesso Si mette prima a bando E quindi Se c'è un'associazione Ha un diritto Di prelazione Questo è chiaro Questo si può prevedere Ancora meglio E Passato quello Del discorso E le assegnazioni Direi che Questi sono Gli effetti Che Le osservazioni Che possiamo mettere Restringere Magari le portiamo Tutte venerdì insieme Ci lavoriamo Questi due Tre giorni Che ancora mancano E venerdì Io invito Tutti i consiglieri Che vogliono venire E partecipare Alla riunione Di venerdì Mattina Alle nove Per stilare In maniera Più che completa Questa Queste osservazioni Il discorso È riportare La legalità Riportare la legalità Che cosa significa Fare il regolamento Che sia chiaro Sistemare Le situazioni Pregresse Derivanti Dalla 140 Mettere gli uffici In Grado Di sistemare I casi singoli E qui Per casi singoli Rivedo Quello del teatro Della dodicesima E andare avanti E cercare Di sistemare Una volta Per tutte Tutta questa situazione Non sarà Un Un cammino breve Perché non può essere Un cammino breve Sono talmente tante Le Particolarità E le Diversità Di questo argomento Che sicuramente Non sarà un cammino breve Però si può fare Si può fare Piano piano Si può fare Con attenzione Si può fare Nell'ottica Di Assicurare Sempre più Il servizio sociale Con i beni sociali Lascio la parola Gli altri Presidente Grazie Grazie Consigliere Non mi ricordo L'ordine Preciso Mi pare Consigliere Ecca Se non sbaglio Ecca Sì Grazie Io provo A essere Sintetico Anche perché Molto è stato Già detto E mi trovo Sostanzialmente D'accordo Quindi Sicuramente Sull'articolo 42 Di questo Proposta Di regolamento Vi è Molto da ridire Anche perché È un regolamento Che Come dire Se proietta Se proietta L'utilizzo Dei beni Immobiliari Quindi Nel territorio Verso il futuro Non sana Non risolve Quel che è successo In passato E quella Che è L'attuale Situazione Presente Il caso Appunto Del teatro Della dodicesima Che Insomma Conosco La cui attività Insomma Hanno valorizzato E soprattutto Sono state a servizio Di tutti gli abitanti Di Spinaceto E non solo Prima a Largo Cannella E poi a Via Volio È emblematico Ma non è l'unico Naturalmente Da questo punto di vista In effetti Il tema È proprio Quello Di Riconoscere Il lavoro Che È il terzo settore In tutte le sue forme Che adesso Tra l'altro Si sta andando A regolamentare Attraverso Diciamo La cosiddetta Legge del terzo settore Insomma Con la riforma Della 117 Si va In qualche maniera A valorizzare Il loro lavoro Penso che Sia opportuno E necessario Tuttavia A valorizzarlo Non solo Rivedendo Quelli che sono I prodotti Della 140 E lo dico In maniera Diciamo Netta E decisa Non solo Fissando Un limite Temporale In riferimento A Il periodo In cui si può Chiedere L'arretrato Il canone Arretrato Ma anche Un Riconoscimento Appunto Del valore sociale E culturale Che le associazioni Le TS Svolgono Sui beni Dentro I beni Pubblici Attraverso Canoni Concordati Non solo Canoni Concordati Ma anche Qua Faccio una proposta Di Osservazione Ulteriore Che non è stata Ancora detta Eventualmente Anche Attraverso Canali Diciamo Definiamoli Agevolati Con Le opportunità Che Il comune Di Roma E le sue Municipalizzate Possono offrire Caso emblematico Nel regolamento Viene Sottoscritto In maniera Giusta E doverosa L'esigenza Di un'assicurazione Il comune Di Roma Ha Una società Che si occupa Solo Esclosivamente Di assicurazioni La quale Tra l'altro Nel suo Regolamento E nelle sue Già Modalità Operative Ha la possibilità Di sottoscrivere Assicurazioni Concordate Quindi Più Vantaggiose Rispetto Al mercato Attuale A favore Degli enti Di terzi Settori Che si occupano Di proprietà Pubbliche Sia Che si tratta Di aree verdi Quindi la manutenzione Ordinaria Sia si tratta Appunto Di mobili Ecco Quella potrebbe Essere Un valore Aggiunto Anche Come forma Di riconoscimento Che Il comune E il municipio Danno Appunto A chi Di fatto Gli gestisce Un bene Che In passato La stessa Amministrazione Non è stata In grado Di valorizzare Appieno Questo È un altro Aspetto Volevo Poi Sottolineare A proposito Della Possibilità Di questa Proposta Di regolamento Due Criticità Anche queste Non particolarmente Sottolineate Che magari Possono essere Discusse Sottoposte Anche Sotto Forma Di Ulteriori Osservazioni Il primo Riguarda L'articolo Diciamo L'articolo 15 In cui Sostanzialmente C'è una carenza Che secondo me Può essere Facilmente Sanabile Che è Quella Della Dovere Da parte Anche Dell'amministrazione Che concede Il bene Di una Fotografia Dello Stato Del bene Nel momento In cui Diciamo Il bene Viene dato In gestione Questo Per Calcolare Meglio E valutare Meglio Gli interventi Che Legittimamente Poi Il concessionario Diciamo Potrà Eseguire E Naturalmente Anche come Tutela Della stessa Amministrazione Nel caso in cui Non so Ci fosse Una situazione Nel caso in cui Ci fosse Un peggioramento Dello stato Della Dell'immobile Una volta Che è stato Dato in concessione Al Concessionario Ultima Osservazione Che propongo Riguarda Invece L'articolo 16 Comma 7 Sotto Comma C Quando Si introduce Secondo me Un principio Sostanzialmente Che potrebbe Generare Controversie Quando si parla Di Il dovere Giustissimo Di attenersi Al progetto Giudicatario Naturalmente Da parte Del concessionario Anche Come Eventualmente Modificato Su richiesta Dell'amministrazione Ora qua Comporta Una sostanziale Fase Di indecisione Per cui Non sarà mai Il caso Dell'amministrazione Ma Puta caso Che L'amministrazione Modifica In maniera Unilaterale Perché qua Così È previsto Il progetto Oggetto Di concessione Quindi Sostanzialmente Ne so Gli richiede L'installazione Non so Di un intervento Particolarmente Oneroso Eccola Che La stessa Lo stesso Concessionario Sarebbe Scavalcato Nelle sue Qualità E facoltà Di gestione Del bene Così come Invece Sono state Riconosciute Nella giudicazione Del bene stesso Ma Allo stesso Tempo Metterebbe Le condizioni Almeno Potenziali Lo stesso Concessionario Di Diciamo Rinunciare Alla gestione Del bene Quindi Di fatto Poi penalizzerebbe Anche L'amministrazione Pubblica Perché Si ritroverebbe O Se entro Un anno A scorrere La graduatoria Oppure a rifare Tutto l'iter Ecco Forse Questa parte Di questo Sottocomma Io Come dire Attenzionerei In maniera Particolare Quanto meno Parlando Di modifiche Concordate Con L'ente Del terzo Settore Con cui Che ha avuto In gestione Il bene Ecco Queste due Osservazioni Più Naturalmente Tutto Quanto Attiene Alla 140 Anche In termini Di Soluzione Caso Per caso Perché È chiaro Che si tratta Sostanzialmente Di beni Di situazioni Molto differenti Anche tra loro È vero Diceva Mi sembra Il consigliere Bellassai Che Ci stando Occupazioni Anche Degli ULIS Ci stando Fenomeni Di occupazioni Di beni Pubblici E via Discorrendo Ma è altrettanto Vero Che nei casi Del teatro Della dodicesima Ma oggettivamente Anche Altri Nel nostro Territorio Sicuramente Si tratta Di Associazioni Che danno Un servizio Vero Concreto E che Ahimè E lo dico Anche con Un pochino Una lacrima Nel cuore Il municipio E il comune Non sono In grado Di offrire Con quella stessa Costanza E Diciamo Forza Che invece Le associazioni Hanno Evidentemente Sono in grado Di Svolgere Ecco Io mi Atterrei A queste due Indicazioni A queste tre Indicazioni Scusate Grazie 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 Consigliere Ecca Vaccari Manuel Grazie Ma Rinuncio All'intervento Anche perché Più o meno È stato Già detto Tutto Quindi Lascio La parola Al consigliere Cerisola Che segue Subito Dopo Grazie Grazie Paola Prego Consigliere Cerisola Sì Grazie Presidente Indubbiamente Il tema È molto Difficile È molto Delicato È estremamente Importante Come è stato Già Rilevato Ascoltare Gli interventi È stato Sicuramente Utile Quanto Quanto emerge Quanto è stato Detto È molto Prezioso Ai fini Della nostra Comprensione Emergono Diverse Criticità Diversi aspetti Che non convincono Di questa Delibera Ci sono Diversi Aspetti Che Non Non sono Non sono Stati Redatti Nella maniera Più Idonea O Comunque Ce ne sono Altri Che non Che non Vanno Nella direzione Nella direzione Auspicata O Nella direzione Di Equità Di rispetto Del quadro Normativo Generale Senz'altro Da quello Che è uscito Fuori In questa seduta Conferma 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 La mia Perplessità Sulla competenza Delle Commissioni Perché È chiaro Che La competenza In capo Alla Commissione Patrimonio E Averra Portata Anche In altre Commissioni È utile Solo ai fini Dell'ascolto Non Quello Dell'analisi Analisi Che Lo ripetiamo È stato Già detto Ma È bene Precisarlo Interiormente Secondo Il Regolamento Il Municipio L'istruttoria È utile In commissione Anche perché Possono partecipare Agli uffici Quindi Il fatto che Non ci siano Uffici Non siano neanche Stati invitati Menzionati Nella convocazione È sicuramente Un bonus Molto Molto Importante Non sto A ripetere Quello che è stato Detto Da altri In maniera Efficace Concludo qui L'intervento Sarò più Esteso In seduta Di consiglio Grazie Presidente Grazie Ceri Sola Vedo Bagliocchi Prenotato Prego Sì Grazie Presidente Chiedo scusa Solo per Un paio Di cosine Per quanto Riguarda La Sottolineatura Del consigliere Ecca Che diceva Di Far Richiedere Le eventuali Assicurazioni Tramite Rilasciare Le eventuali Assicurazioni A favore Del comune Per Quello che riguarda Gli affitti Eccetera Dalla Compagnia Assicurativa Del comune Credo che Non sia Possibile Dobbere Andare a Vedere Lo statuto Perché Non credo Che possa Garantire L'assicurazione Del comune Il comune Stesso Questo Era Ho già Verificato È possibile È possibile Davanti a un tribunale Non so come Ci potremmo mettere Però Va bene così Non c'è problema Perché Un conflitto Di interessi Mi sembra Che ci fosse Ci potrebbe essere Quanto meno No poi Era solo Una cosa Che mi ero Dimenticato Di dire Mi risulta Strano Forse qualcuno Me lo può Spiegare Perché La protezione civile È soggetta Al pagamento Del Dell'affitto Ancorché Decurtato Dell'80% E non Gratuito Cioè Non vedo Differenza Io fra Protezione civile Vigili del fuoco Polizia Carabinieri O quant'altro Tutto Purtroppo Presidente Bagliocchi C'è una differenza Essenziale Cioè Che Mentre Gli altri Sono Direttamente Corpi O Forse Dell'ordine Dello Stato Il sistema La protezione civile È un sistema Con accreditamento Di associazioni private Quindi Sono esclusi Sicuramente La protezione civile Regionale E comunale Ma non possono Esserne Escruse Le associazioni Che aderiscono Alla rete La protezione civile Ma che sono Soggetti Di diritto privato Perfetto Grazie Qualcuno Mi ha risposto Grazie Ho concluso Grazie Grazie Allora Io Cedo la parola Alla Presidente Delivo Per la conduzione Della Commissione Va bene Va bene Ma rimane Rimane connesso Verro Signor Presidente Cagliardi Manuel Pronto Sì Eccomi Non ti ho sentito Perdonami Rimane connesso Certo Certamente Però cedo La presidenza Va bene Io non vedo Nessun altro Nessun altro Esponente A parlare Nessun'altra Richiesta Di Di Per intervenire Ci abbiamo ancora Qualche minuto Se qualcun altro Vuole intervenire Può farlo In questo momento Anche Vabbè Nessun altro Vuole intervenire Allora A questo punto Io Posso prendere Come impegno Come già vi ho detto L'impegno A analizzare Se le osservazioni Che ci vengono inviate Che ci vengono inviate Dalle associazioni Ma anche quelle verbali Che sono arrivate Da Specialmente Da Mattei Nella quale Ce n'è una Che ritengo Veramente Molto importante Che è quella Degli abusi Edilizi Della regolamentazione Sui beni Immobili Del patrimonio Su cui ci sono Degli abusi Edilizi E L'associazione Se ne devono fare carico Quello effettivamente È Un punto A mio parere Patrizia Però perdonami Su questo Io non vorrei Che si fosse Generata una confusione Cioè L'articolo Che veniva letto Da Mattei Prima È Il corpo Del regolamento Mentre in questo caso Visto che sono Situazioni pregresse Quello che va letto È l'articolo 42 Nella parte Delle norme Transitorie Perché È chiaro che Si deve gestire In un modo L'abuso Qualora ci dovesse Essere Nella costanza Di un rapporto Che nasce da zero È completamente Differente Invece La fattispecie Di una situazione Che viene raccolta In corso d'opera E che deve essere Regolarizzata Infatti la differenza La differenza È essenziale Che mentre Nel corpo Poter entrare All'interno Sono d'accordo Sono d'accordo Però Qui è scritta È fatta salva La regolarità Edilizia Del bene Che in mancanza Dovrà essere Conseguita In conformità Alle vigenti normative Senza nulla A pretendere Nei confronti Più in basso C'è un'altra In cui L'associazione Deve garantire L'accesso All'amministrazione Per consentire Le procedure Di regolarizzazione Beh però Non è chiaro Non so Va bene Ne discuteremo È effettivamente Un punto È un punto Da discutere E quindi Ne discuteremo Quindi a questo punto Se nessun altro È in Vuole intervenire Direi che Possiamo votare Però Con Noi ci prendiamo Assolutamente La L'onere Di Acquisire Tutte queste Osservazioni Verbali E scritte Anche quelle Del Consigliere Ecca Tutte le cose Che sono emerse Cercando di Inserire All'interno Di Osservazioni Da far confluire Nell'ultima Riunione Io Anche domani C'è anche la Reunione Della commissione PNRR Volevo solo Dire una cosa Piccola piccola A Marco Cerisola Che Ha Sul Fatto Sull'assegnazione Delle commissioni Io credo Che L'assegnazione Della commissione Politiche sociali Sia fondamentale In quanto Le politiche sociali Hanno Tantissime Enti Del terzo settore Che utilizzano I beni Immobili Come anche Credo che sia Fondamentale Ovviamente Mi dispiace Che non sia stata coinvolta Anche Quella della cultura Perché Anche la cultura Ha Questa prerogativa E quindi Ritengo Che invece Sia stato giusto Approfondire Questa cosa E fare Questo passaggio Perché Non tutti Siamo presenti Ai tavoli Della 140 E quindi È giusto Che tutti I consiglieri Possano approfondire E fare L'istruttoria Nel senso Più Vasto Possibile Detto Questo Sono Presidente De Vivo Sono Laurelli Prego Assessora Sto proposito Non solo C'è una competenza Nel merito Che Va oltre L'utilizzo Delle mura Fisiche Del patrimonio Entra dentro La progettazione E le attività Che le associazioni E gli enti Del terzo settore Svolgono Dentro Un bene Pubblico Quindi sicuramente Come giustamente Lei diceva Manca Il parere La commissione cultura Ma anche Delle realtà Del mondo Dello sport Diciamo Che a 360 gradi Avremmo Dovuto Avere Più Spazio E più Tempo Anche per Estendere Oltre E questo Purtroppo Non ci è stato Dato Ed è una Critica Giusta Che è stata Fatta Ma Le realtà Del terzo Settore Stanno Dentro Le deleghe Alle politiche Sociali Quindi francamente Non vedo Diciamo Quale motivo Ci sarebbe stato Di esclusione Proprio Di questa commissione Che invece Interviene nel merito Cioè Qua oggi L'unica realtà Esterna a noi Che stiamo Ascoltando Sono le associazioni Il terzo Settore Ci sarà un motivo Per cui Stanno Dentro Una Convocazione In cui Ci sono i consiglieri Della commissione Politiche Sociali Ma io stessa Ho detto Prima Che fra Dentro Le diverse Osservazioni Da preparare Una Secondo me Insieme a quella Relativa Alla Vocazione A rendere Effettivo Rapidamente Un decentramento Almeno parziale O almeno In parte Del patrimonio Della sua gestione I municipi Deve essere Quella Che Nella lista Delle Realtà Istituzionali E associative Del terzo Settore Che i municipi Siano in capo Alla lista Dei soggetti Pubblici Che hanno diritto Di avere Beni immobiliari Della sua Amministrazione Con Priorità Assoluta Rispetto a Tutto il resto Cioè Io ve lo dico Con molta Chiarezza Se Arriveremo Come arriveremo Presto A dover Rinunciare A fondi Che le leggi Ci mettono A disposizione Per aprire Servizi Per far fronte Bisogni sociali Di cura Di salute Per i nostri Cittadini Amministrati Sarà un fatto Molto grave E questo Succede Dentro Una realtà Di un patrimonio Che sta Sul nostro Territorio Che è Vuoto Al 50% Irresponsabilmente Da molti anni E che Noi Anche quando Lo abbiamo Richiesto O non Ottiene Risposte Un caso Su tutti Il PNRR Nell'ambito La sanità Prevede Che in ogni Municipio Si individui Un immobile Per realizzare Per realizzare L'ospedale L'ospedale Di comunità Scusate Se è poco Noi A oggi Da febbraio Aspettiamo 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 Che il dipartimento Del patrimonio Ci dica Se possiamo Destinare Metà Della struttura Che è Di nostra Gestione Da una vita Cioè Via Comisso Per destinare 1700 Metri Quadri Per fare Con fondi PNRR L'ospedale Di comunità Quando ci risponderanno Ci risponderà Qualcuno Io Con tutto rispetto Per le associazioni Rivendico Il diritto Di essere Considerati Pari All'amministrazione Comunale Su questioni Di questa natura Ok E questo Va scritto Da qualche parte In qualche modo In modo molto chiaro La seconda Mai rispondono Dal dipartimento Patrimonio Né ai municipi Né alle associazioni Perché c'è proprio La paura Per cui In questi ultimi anni La paura Della firma Di atti Che ti possano portare Poi direttamente In giudizio E quindi Con spese legali Eccetera Eccetera Le accennava prima Li Butti Ma vi sembra Normale Che durante una guerra Come quella Dell'Ucraina La sottoscritta Assieme alla presidente Titti Di Salvo Chiede L'utilizzo Di una stanza All'ex centro commerciale Chiusa Vuota Non utilizzata Da almeno 20 anni I cui Legittimi Assegnatari Dei primi anni 2000 Risultano Tutte e due Morti Nomi e cognomi Indicati per iscritto Nel giro di 48 ore Il capo dipartimento Ha risposto No Quella roba là È legittimamente Assegnata A queste due realtà Associative E a voi Non la posso dare Per metterci I beni Che avete raccolto E che dovete far portare Dalle missioni In Polonia Io Tutto questo Lo trovo Indecente E inaccettabile E vorrei Che il regolamento Nuovo Sul quale Andiamo a dare Parere Dicesse cose Di utilità Concrete Meno confuse Molto più chiare Anche sulle questioni Del pregresso Per questo Mi accaloro Perché faccio Un appello A tutti i consiglieri Presenti oggi Perché Estendano Questi nostri Punti di vista Critici Per fare in modo Che negli altri Consigli municipali Che in queste stesse ore Stanno lavorando Per dare dei pareri Vengano condivise In tutto In parte Dipende da loro Le nostre osservazioni Che sono Prima che politiche Molto Molto Di merito E rispondono Davvero A una necessità Oggettiva Di gestione Di una materia Complessa Ma gestibile Scusate Ma Mi sembrava Doveroso Grazie Assessora Sono importantissime Le osservazioni Che ha Indicato Cercheremo Di correggere Il Regolamento Nell'ottica Del decentramento Perché Effettivamente I municipi Sono considerati Alla pari Di un normale Dipartimento Del Capitolino Io Vedo La mano Di Fulvio Bellassai Che è alzata Prego Fulvio Nella parola Sì grazie Presidente Sì grazie Quanto ha detto L'assessore Laurelli Ovviamente Conferma Il fatto Che Le inadempienze Sono In questo campo Come in altri Sono Non voglio dire In gran parte Ma insomma In grossa percentuale A carico Dell'amministrazione E questo Come cercavo Di dire Nel mio intervento Dovrà essere tenuto Debitamente In conto Il consigliere Ecca mi diceva Che avevo richiamato L'aspetto legalità Volevo fargli notare Che avevo anche richiamato In deroga L'aspetto legalità Il fatto che talvolta Questa legalità L'amministrazione E l'amministrazione È la prima A non garantirla E da ultimo Volevo dire Che la Presidente Richiama il voto Io francamente Non capisco Come facciamo A votare Qualcosa Che tutti quanti Abbiamo giustamente Ritenuto Suscettibile Di consistenti Osservazioni Quindi se dovessimo Effettivamente Votare oggi Io non potrei Che astenermi Grazie Consigliere Bellassai Io credo Che Quello che è stato detto Anche da alcune Associazioni Questo regolamento Finalmente Finalmente Sta cercando Di riordinare Questa complessa Materia E buttarla Così nel cestino Sinceramente Io sono convinta Che le nostre Osservazioni Quelle che abbiamo Fatto oggi Quelle che faremo Nelle successive Riunioni Lo miglioreranno Ma buttarlo Nel cestino Ma non si butta Nel cestino Presidente Chiedo scusa Si fa istruttoria Come è giusto Che facciano le commissioni Si voterà Nel momento In cui le osservazioni Saranno consolidate Non buttiamo Nel cestino Nulla Però la fretta Di votare Francamente Secondo me Dà un segnale Sbagliato Che è quello Che si voglia Far imporre Diciamo Un'iniziativa Che per quanto Lodevole È molto È suscettibile Di molte modifiche Ed è necessario Che venga Debitamente Aggiustata E quello Che abbiamo fatto In tantissimi Altre Regolamenti In cui abbiamo Portato poi Le osservazioni In consiglio Niente di più Niente di meno Quello che facciamo oggi Stiamo seguendo Semplicemente Una prassi Prego Vaccari Grazie Sì sì Grazie Presidente Non riuscivo A smutare Vabbè Io volevo Rispondere Al consigliere Bellassai Chiedo scusa Non posso Per rompere nessuno Se la discussione Il merito È finita Noi vi lasceremmo La vostra discussione Politica Grazie 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 a voi 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 Grazie a tutti Arrivederci Allora Riprendo Riprendo Dove ho lasciato Dunque La risposta Al consigliere Bellassai Oggi Sicuramente La nostra votazione È semplicemente Un'espressione Di ciò che Vogliamo portare avanti E lo abbiamo dimostrato Già da dicembre Quando abbiamo votato All'unanimità In consiglio La risoluzione Sulla 140 È normale Che ci saranno Delle osservazioni Da fare Ma visto che c'è Una commissione Congiunta A cui noi dobbiamo Comunque In qualche maniera Rispondere Io credo Che sia necessaria La votazione Oggi Per quanto concerne Solo ed esclusivamente Queste due commissioni Domani ci sarà Se non erro Domani O venerdì La commissione Di Baiocchi Non ricordo Quella sul patrimonio Quando c'è Quando si riunisce Dove Probabilmente Ci saranno Delle Delle osservazioni Allegate Alla 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 Votazione Finale Che poi Ovviamente Ci sarà la discussione In consiglio Quindi Io capisco Le perplessità Di Fulvio Perché anche lui Ha espresso Delle sue Perplessità Come le abbiamo Espresse anche noi Raccoglieremo Tutte le nostre Osservazioni Anche Quelle pervenute Dalle associazioni Come diceva La Presidente De Vivo E ne faremo Mi auguro Un ottimo Pacchetto Da spedire Poi Al comune Per migliorare Questo regolamento Quindi Le perplessità Da una parte Le comprendo Ma da una parte Da una parte No Perché in fondo Noi stiamo Semplicemente Dando un parere Oggi Non vincolante A parte che non è Vincolante Neanche quello Del consiglio Ma che sarà Implementato Poi Sia nel dibattito Del consiglio Ma anche Nella commissione Patrimonio Grazie Patrizia Non ti sentiamo Alla parola Ecca Grazie Presidente Brevissimamente Io penso Che il compito Il municipio Sia proprio Quello di Fare Osservazioni Quindi In questi contingenti In questi Frangenti Noi dobbiamo Studiare Analizzare Sentire Naturalmente Tutte le parti Consultarci E dare osservazioni Quindi A oggi Noi Esprimiamo Esprimeremo Un parere Chi Favorevole Chi Spero Pochi Negativo Ma Su Diciamo Una Diciamo Una proposta Di regolamento A cui Poi Come abbiamo Detto Un po' Tutti Faremo Osservazioni Quindi Non vedo Proprio Niente Di Trascendentale Anzi Chiedo Al consigliere Bellassari Ma un pochino A tutte le Opposizioni Se hanno Osservazioni Da fare Penso che La possono Tranquillamente Presentare Si discuterà Tutti Insieme Presidente Intervengo Io Chiedo Scusa Vedo La mano Usata Di Roberto Chiedo Scusa Era solo Per ribadire A tutti I consiglieri Bellassari Vaccari Tutti Gagliardi Di Di Partecipare Venerdì Alle nove In modo da Stilare Un documento Che sia Il più Completo Possibile Che ci permetta Di lavorare Poi bene Anche in consiglio Tutto qua Grazie Grazie Roberto Dell'invito Sono Ok Abbiamo concluso Prego Fulvio Sì no Giusto Per chiarire La posizione Perché In talun intervento Mi è sembrato Di essere Considerato Uno sconclusionato Sinceramente Ognuno ha le sue opinioni Ma non credo Essere sconclusionato Assolutamente No Abbiamo tempo Abbiamo tempo Fin dal 15 settembre Se non erro Per esprimere Il parere in consiglio Allora io dico Si fa un'istruttoria Si va avanti Nell'istruttoria In altre commissioni Allo stato Allo stato attuale Le osservazioni Quando saranno consolidate La potremmo anche Rivotare Il tempo Il tempo ci sarebbe Mi sembra Mi sembra che Invece Dopo tanti Auspici Lo spirito Mi sembra che sia Però intanto Mettiamo da parte Un parere favorevole La dico proprio Come la penso Io sono stato Il primo a dire Che emanare Questo regolamento E quindi cominciare A fare qualcosa Di utile Al riguardo È un fatto positivo Tutto qua Grazie Consigliere Bellassai La sessora Laurelli Hai chiesto la parola Volevo delle spiegazioni Perché c'è un Balletto di date Attorno Alla Approvazione O comunque Valutazione Di questo regolamento E anche attorno A quello Del nuovo regolamento Dei centri anziani Siccome la cosa Mi coinvolge Direttamente Personalmente E devo riuscire A sistemare Anche l'agenda Delle attività Dell'assessore La domanda è Alla segretaria Della commissione Verbalizzante Primo Si può concludere Il lavoro Di una commissione Senza l'espressione Formale Di un parere E qua non stiamo Trattando Di argomento Di contenuti Ce le decidiamo Per fatti nostri C'è un regolamento Del municipio Che dice Espressamente Quello che dobbiamo Fare Per stare Dentro le regole Seconda questione Sento dire Da Bellassai Che qui Entro il 15 Noi possiamo Dare il parere Su questo Regolamento Relativo al patrimonio Immobiliare Io sapevo Così mi era stato detto Che il 6 È già convocato In procinto Di convocarsi Il consiglio Nel quale Noi chiuderemo La valutazione Del regolamento Con l'approvazione Di una serie Di osservazioni Con un voto finale Come sta messa La situazione Domando Alla Verona Mi rispondo La situazione è questa Allora Per il motivo Oggi bisogna Comunque Esprimere un parere Anche perché Appunto La delibera Come dicevamo Dovrà passare Domani Alla speciale E poi successivamente Alla quinta Di venerdì Dove appunto Si diceva Che verrà Comunque Perché verranno Predisposte Di osservazioni Ma comunque La delibera Diciamo La proposta L'ha comunque Votata oggi D'entrambe le commissioni Ok Grazie Prego Lo confermo Anch'io Come da lettera D'incarico Ricevuta Come presidente Di commissione Bilancio E patrimonio A questo punto Io direi Di votare Aggiungo Che la tempistica Scusate Era stata Mandata Da tutti i consiglieri Quindi era nota Il passaggio Nelle quattro commissioni La tempistica Di scadenza In consiglio Ce l'ha mandata Il presidente Betoni Quindi diciamo Più o meno Tutti i consiglieri Sapevamo Ho fatto Confusione Tra il nove E il dodici Era quella Che scadeva L'otto E quella E l'altra Consigliere Abbia Sai Cioè Questa È l'otto Settembre Scade Quella Dei centri Anziani Scade Il quindici Settembre Sempre Una Del presidente Betoni Ma è un altro Allora Dei centri Anziani Scade Il quindici Settembre E noi La discutiamo L'otto Settembre In commissione La nostra Commissione E Sicuramente Il presidente Del Consiglio La inserirà Probabilmente Un altro giovedì Dovrà occupare Un altro giovedì Ma questa Decisione Aspetta Ai Presidenti Agli altri Presidenti Allora Io a questo punto Sono alle 12 E 18 Per rispondere a Bellassai Io ritengo Noi riteniamo Che sia Questo regolamento Sia Al 70 80% Positivo E quindi Non possiamo Darci Non possiamo A mio parere Poi Ti dico Per quello Che penso Io Io sono Favorevole Con tutto Questo lavoro Che ci aspetta In questa settimana Per cui Fulvio Se ci sono Anche delle Osservazioni Che tu Non riesci A presentare Non riesci A venire Spediscele Tranquillamente Alla Casella Della commissione E poi Magari Ne parliamo Anche con Marco Muropeste Che sarà Presente Venerdì Quindi Tranquillo Anche Cerchiamo Di acquisire Tutte le nostre Io penso Che ogni Parere Qui dentro Dei consiglieri Degli assessori Ma anche Specialmente Delle associazioni Che sono andate via Sono pareri A mio parere Preziosissimi Essendo la materia Veramente difficile Quindi per noi Tutto è prezioso Ti invito A mandare Le tue osservazioni E abbiamo E ci sarà La certezza Di discuterle Anche tutte quante In consiglio Oltre che Nelle commissioni Grazie al presidente Baiocchi Quindi io metterei Tutto a votazione Se è possibile Chiederei A Valentina Di fare Siamo tutti presenti Sì Mancano Non metto I consigli Degli uni Sede è uscito Alle 11.17 Il consiglio Muropeste È uscito Alle 10.45 Però comunque Possiamo procedere Alla votazione Perché Sede È uscito Perché aveva da fare Magari De Iulis Possiamo recuperarlo Non lo so O ha detto Che Ha scritto Che usciva Alle 11.17 Non lo vedo collegato Però io intanto Comunque faccio Ovviamente L'appello Al momento Siete Quanto riguarda La commissione Seconda 1,2,3 E 4 Quindi siete 4 Su 6 Perché il consiglio Borrelli Fa parte della commissione Prima Quindi va bene Insomma Si può votare Mentre siete presenti Per la commissione Prima Siete presenti Tutti Va bene Allora A questo punto A questo punto C'è anche Marco Cerisola Tutti presenti Vero? Ti è posto Marco Marco No Al momento Non lo vedo Lo chiamo Un seguito La verbalizzante Dovrebbe verificare Il numero legale Quindi se c'è il numero legale Anche se altri consiglieri Non ci sono Andiamo avanti 20,2 commissioni C'è in tutto Ma seconda Ci state Perché siete in 4 presenti Quindi di solito È la metà Più 1 Dato che siete in 6 Ci rientrate Per quanto concerne La prima commissione Io pure sono presente Io pure sono presente Sì sì Sto parlando La commissione seconda La commissione seconda Sono in 4 Al momento presenti Quindi ci rientrano Perfettamente Perché dovrebbe essere La metà Più 1 Per quanto concerne La commissione prima Mancherebbe soltanto Il consiglio De Cirisola Quindi anche qui Ci rientrate Per la votazione Quindi si può fare E allora possiamo Procedere alla votazione Se i presidenti Delle due commissioni Sono d'accordo Sì sì Procediamo Ok Va bene dai Procediamo Allora procedo La votazione Per il parere Da parte della commissione seconda Gagliardi Manuel Favorevole Bagliotti Roberto Favorevole De Iulis Massimiliano Ecca Fabio Favorevole Marrocchini Giulia Marrocchini La vedo presente In collegamento Si è smutata La vedo Presente non votante Marrocchini Giulia Mi risulta presente Al momento non votante Io ho visto Io ho visto Che ha provato A smutare E a mutarsi Quindi è probabile Che non Che non riesca A collezione Si sta uscendo E rientrando Perché aveva un problema Di microfono Eh sì Immagino Tanto ci sarà Mi sentite Sì sì Ecco Ecco Mattia Favorevole 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 Muro Pes Marco Ok Allora Per quanto concerne La commissione seconda Il voto è favorevole All'unanuità Quattro voti favorevoli Procediamo con La votazione Della commissione prima De Vivo Patrizia Favorevole A Leo Rigino Vedo presente A Leo Rigino Sì Contrario Contrario Angelini Lorenzo Favorevole Bellassai Fulvio Astenuto Borrelli Danilo Favorevole Ci risola Marco Vaccari Paola Favorevole Favorevole Ok Allora abbiamo Quattro favorevoli Un assenuto Un contrario Quindi la commissione Prima approva Grazie Valentina A questo punto Sono le 12 e 24 Io Chiuderei la commissione Saluto tutti Anche perché sta interessante Per tutti i contributi Ci teniamo in contatto in questi giorni Va bene Allora Io Sono le 12 e 25 Valentina La chiusura Le 12 e 25 Con te Con te Perfetto Sì Ragazzi Ok Deve interrompere la registrazione Rompiamo la registrazione Ciao a tutti Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti